Siamo in diretta dal centro storico di Eboli, un momento importante per la cittadina ebolitana da quando è stato eletto il nuovo sindaco e con me Giancarlo Presutto, uno dei consiglieri comunali nonché il capogruppo del nuovo PSI che poi è il partito del sindaco. Ovviamente è un momento davvero importante e di grande emozione. Quali sono i punti di cui si parerà stasera e che cosa rappresenta un po' il primo consiglio comunale per tutta la cittadinanza? Noi ricordiamo che siamo in diretta. Buonasera a tutti. Questa sera è un momento storico e importantissimo in quanto per la prima volta nella storia della città c'è un governo di centrodestra abbiamo vinto grazie all'impegno profuso da Massimo Cariello, il nostro sindaco questa sera ci sarà l'insediamento ufficiale, come detto, quindi per la città è importante avere un'amministrazione attiva pronta a lavorare per i cittadini. Poi ci sarà l'insediamento, la votazione del Presidente del Consiglio Comunale. Secondo te come andrà l'insediamento del Presidente? Sarà eletto o non sarà eletto? Perché questa è poi una cosa che ci siamo portati indietro un po' per diverse settimane. Chi sarà il Presidente? Si parla di Fausto Ovecchio ma ce la farà essere eletto già alla prima votazione? Ma guarda, noi stiamo sfadando tutti i tabù, stiamo superando tutti i record. Penso che questa sera riusciamo ad eleggere per la prima volta il Presidente del Consiglio alla prima battuta. Dici di sì? Sì, 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 sì. Sono fiducioso. Quanti consiglieri ci vogliono? Quanti voti ci vogliono in totale? Cioè nel senso i due terzi se non sbagliate. Ci sono 17 voti? No, ci lo auguriamo, ci proponiamo il voto. Prestito, come fanno ad essere 17 se la maggioranza sono 15? Ma guarda che il Presidente del Consiglio è una persona super partes che deve garantire tutto il Consiglio. Diciamo che la Brocca potrebbe votare. Io devo dire la vita, voci di corrido che così dicono. La Brocca, e sono 16, è il 17esimo? Tanto siamo in diretta. È il Sindaco. Ah già, è vero, non conteggiavo il voto del Consiglio. Hai visto? Siamo 16 di maggioranza. Ah, 16 di maggioranza e poi in teoria il voto di la Brocca. Se dovesse votare forse una delle prime volte che insomma capita che venga eletto al primo colpo. È la prima volta. Sarebbe la prima volta. Anche perché il voto è segreto, quindi ci sarà uno scutinio vero e proprio. Ah, io pensavo invece si votasse in maniera evidente. No, 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 no. Beh, allora potrebbero anche essere qualcuno in più, chissà. No, qualcuno in meno, non lo sappiamo. Non lo so. Questo non lo so. Allora, come sono andate le prime riunioni dopo la Giunta? Insomma, adesso siete rimasti tutti soddisfatti dei nomi che sono stati poi proposti al Sindaco. Il Sindaco ha accettato. Sì, abbiamo iniziato già a lavorare tantissimo. Il Sindaco lavora quotidianamente 20 ore al giorno. Lui è solito già essere così. L'ha dimostrato in questo suo percorso ventennale di politica. Abbiamo iniziato anche noi a conoscere lo stato dell'arte dell'ente. La squadra degli assessori è pronta, come ben sai. Beh, voi avete conquistato... La squadra, in quanto siamo una maggioranza molto omogenea e... Voi avete conquistato, andiamo via un po' più già... Ecco qua. Avete conquistato anche uno dei... Forse il secondo ruolo più importante, quello del Vicesindaco. Come nuovo PSI intendo. Sì, anche se... Noi siamo felicissimi, anzi faccio gli auguri all'amico e collega Cosimo Pio di Benedetto. È chiaro, è una pedina fondamentale per il futuro della città, il Vicesindaco. Però siamo contenti, anche se la squadra, la giunta del Vicesindaco sono scelte prettamente del Sindaco. È chiaro che c'è stata una consultazione con le liste in campo, però noi siamo felici di questa scelta, naturalmente. Beh, sta già lavorando su diversi progetti di Benedetto, no? Mi risulta. Sì, perché sta incominciando a lavorare sul bilancio, sul patrimonio, su queste deleghe pesanti e importanti che ha, anche perché l'ente noi sappiamo bene che viene da un passato disastroso, siamo in ginocchio come ente. Però noi siamo fiduciosi ad impegnarci e quindi portare... L'opposizione è già pronta a dare battaglia, no? C'è il consigliere Cardiello che negli ultimi giorni già ha cominciato a dare delle belle piccate alla maggioranza. Sì, Damiano Cardiello fa il consiglio d'opposizione, è giusto che sia così. Anzi, l'opposizione deve essere da stimolo alla maggioranza, fare le cose con trasparenza, fare le cose bene ed essere sempre decisivi. Io non entro in polemiche oggi che c'è l'insediamento, oggi dovrebbe essere una serata particolare per tutti. Mi auguro che anche per l'opposizione sia una serata all'insegna della correttezza e della collaborazione. Poi da domani ognuno fa la propria parte. Non ho dubbi. Va benissimo, Presutto, noi ti ringraziamo e ci aggiorniamo durante il corso della serata. Prendiamo subito al volo il consigliere Lenza, intanto ci vediamo dopo. Ecco, consigliere ormai. Consigliere per tre giorni praticamente. No, forse 24 ore, ma più o meno. Praticamente. Sarei le prime dimissioni, voglio dire. Bene. No, in effetti forse il tuo ruolo è stato proprio definito quasi subito. Dobbiamo dire che i giornalisti subito taccano al definito. Ci avete colto immediatamente, devo dire. Però noi siamo stati sempre un po' col fiato sospeso fino all'ultimo. Devo ringraziare Massimo che ha voluto confermare questa ipotesi, che era un'ipotesi di lavoro durante tutta la campagna elettorale. Poi anche dovevamo confermarla alla luce degli equilibri. Sai come succedono queste cose? Se invece lui ha confermato questa delega, anche al di là di quello che è il risultato elettorale, credo anche per la competenza personale e per le politiche sociali. E niente, insomma, stiamo lavorando. Le politiche sociali sicuramente sono una cosa importante, un impegno importante per Lenza sicuramente, ma lo sarebbe stato per qualsiasi altra persona. Quali possono essere? Su che cosa stai già lavorando? Allora, è prestissimo per dire qualcosa. Noi siamo, in fondo, nemmeno una settimana che abbiamo avuto questa delega, siamo ancora in fase di ricognizione, stiamo vedendo qual è lo status dell'arte e stiamo cercando di capire come mettere in atto quello che è il programma elettorale di Massimo Cariello che abbiamo condiviso noi tutti della coalizione. Stiamo cercando appunto di trovare gli strumenti. Certo è che le politiche sociali sono importantissime, sono importanti in questo momento particolare di crisi che noi conosciamo, crisi economica, ma anche crisi sociale, per cui le politiche sociali sono chiamate ad un lavoro particolare, straordinario, secondo me. e siamo, ed è ancora più importante e anche difficile perché oltre al problema insito appunto nel problema sociale c'è il problema economico alla base e sappiamo bene che dobbiamo lavorare inventandoci anche servizi con pochi risorse, con pochi soldi. Ma noi, voglio dire, spero di... Si può lavorare un po' sui progetti, no? Certo, i progetti sono la base delle politiche sociali, come sai dal piano di zona lavora su progetti e lavora su progetti che poi vengono inseriti nel piano regionale, approvato poi appunto dall'esecutivo regionale. È sui progetti che poi c'è la differenza, fa la differenza, la qualità del servizio, la qualità del progetto, devono essere progetti che vanno a risolvere i problemi più importanti della società, quali appunto le difficoltà degli anziani, dei portatori, delle persone con disabilità, che è una delle cose più importanti, dell'immigrazione e della famiglia che in questo periodo sta subendo ovviamente una crisi legata appunto al momento contingente. Lenza, che cosa... è un momento proprio così emozionale, no? Che cosa ti hanno detto i tuoi pazienti quando sono venuti poi da te, insomma, in questi giorni? Magari sono un po' preoccupato che li abbandonerà, insomma... Brava, brava, è vero, è vero. Mi hanno pregato di non abbandonare, ma non lo farò, si tratta solo di organizzare il proprio tempo. Sono sempre convinto che c'è spazio per tante cose, magari rinunceremo a qualche svago, rinunceremo a qualche palestra, anche se invece c'è un po' di tempo libero per dedicare tutto a questa avventura che mi entusiasma e che mi prende al cento per cento. Sicuramente farai benissimo, insomma, conosciamo anche la tua capacità di darti totalmente, quindi ti telefonano e corri immediatamente, quindi va bene così lo farei. Infatti, infatti sono sempre in giro. Lo farai per tutti sicuramente. Allora, Consiglio Comunale pare che al primo colpo si beccherà anche con il Presidente del Consiglio, anche tu sei di questo parere? Allora, l'elezione del Presidente del Consiglio è di pertinenza dei consiglieri comunali. Io faccio parte della Giunta, non posso dire nulla, non metto bocca, ma il voto è segreto e ogni singolo consigliere deve votare la persona che ritiene più idonea a svolgere un ruolo fondamentale di garanzia per tutto il Consiglio Comunale, non solo ovviamente per la maggioranza, ma anche per i consiglieri di opposizione. Quindi, certo, noi ci auspichiamo che possa essere eletto già oggi, sarebbe un bel risultato, un bel segnale per tutta la città. Bastano 17 voti? Bastano i due terzi, sì, alle prime tre votazioni c'è la maggioranza qualificata dei due terzi, quindi 17 voti. Però, ripeto, insomma, sarebbe un bel risultato per tutta la città, un segnale importante per tutti. Sicuramente, speriamo che sia così e ci rivediamo nel corso della serata. A dopo. Se mi mandi il consigliere Piegari, che stavessi a dire... Il consigliere Piegari, prego. Piegari, venga, venga. Allora, noi proseguiamo, cerchiamo di recuperare al volo i vari consiglieri che sono presenti questa sera e che magari nel corso dei giorni non avevamo ancora conosciuto. Ecco la cosa, lui sicuramente è una new entry per quanto riguarda il Consiglio Comunale, tra l'altro sei anche un giornalista. Sì, diciamo, la carta anagrafica così dice. Tu ti sei sempre occupato di sport? Sì, 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 seguito l'Ebolitano, insomma, scritto su vari giornali, locali e campani. Allora, innanzitutto, come ti è venuto in mente di candidarti al Consiglio Comunale? Me l'hanno chiesto in tanti, anche i miei cotani. Diciamo che è stata vista come un'occasione di rilancio, di scatto nei confronti della città di Ebol, che noi abbiamo frequentato tanto. Io ho studiato scienze politiche, quindi comunque è una passione che sarebbe prima o poi uscita fuori. È l'occasione, il treno è passato ad adesso. Senti, quando hai capito che saresti entrato in Consiglio, qual è stata la prima emozione? A che hai pensato? Mi vorrei sapere anche fino ad adesso in coscienza. Cioè, non sapere l'abbiata in coscienza, insomma, ha aiutato, non avendo pressione, non avendo anche responsabilità, inizialmente da un senso di leggerezza che è piacevole. Sicuramente un volto nuovo, sicuramente farai benissimo, noi ti seguiremo, ovviamente se c'è qualcosa che non fate lo diremo. Ovviamente, le critiche sono sempre ben accette, più dei complimenti. E allora buon lavoro e buon consiglio, grazie a te. Ormai siamo quasi pronti perché il Consiglio Comunale dovrebbe partire al momento, almeno ce lo auguriamo perché altrimenti facciamo notte, consigliere stasera. Sono accompagnato il consigliere Carmine Busillo, nonché il capogruppo di Insieme per Ebol. Una bella affermazione come gruppo sicuramente, no? Sì, è stata un'avventura importantissima che ci ha condotti attraverso dei principi valoriali in comune che ci hanno ispirato in questa battaglia elettorale. Adesso il tempo degli onori è finito e inizia il lavoro. Sicuramente, un capogruppo sicuramente ha un ruolo importante, determinante, quindi grande responsabilità ha per te. Sentiamo, non solo per me, ma sentiamo tutti quanti i consiglieri comunali, la Giunta, il Sindaco, sentiamo forte il peso della responsabilità, delle azioni che dovremo fare. La città ha tante aspettative su di noi e contiamo con impegno di mantenere tutte quante. Ne sono certa. Ci sono delle priorità importanti come quello di oggi, insomma, il primo consiglio comunale ufficiale, quello in cui dovrà essere eletto anche il presidente del consiglio. Ce la farete o no? La Brocca ha ragione. Il voto è segreto come prevede il regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Eccolo là. Ringraziamo Carmine Busillo. Abbiamo beccato al volo il consigliere La Brocca che, in qualche modo, nella parte finale della campagna elettorale, quindi al ballottaggio, ha dato anche un sostegno alla destra di Massimo Cariello. Sono un uomo di destra, è chiaro che avrei votato destra. Ho votato destra, ho appoggiato Cariello, era l'unico sindaco di destra, candidato sindaco di destra e giustamente ho appoggiato Cariello. Infatti si è visto, insomma, Rizzo è passato davanti alla telecamera, vabbè, non fa niente. Allora, La Brocca, sicuramente una bella responsabilità e una bella affermazione, no? Essere di nuovo in consiglio comunale, insomma, per lei è una bella affermazione. Ebbè, per la quarta volta sì, penso proprio di sì. Significa che hanno fiducia in lei? Ebbè, penso proprio di sì. Io vivo in mezzo alla gente, non vivo a un altro posto. Sto con la gente, faccio carica e soffro assieme alla gente che mi conosce. Ecco perché non ho bisogno neppure di fare la campagna elettorale. Sono loro che vengono da me a dirmi, Giuseppe, ti sei candidato? E questo è. Sicuramente Cariello ha detto, insomma, che darà una importanza importante, una grande importanza alle periferie. Questo sicuramente per lei è una bella soddisfazione anche, no? Sì, dopo tanti anni di lotta per la periferia, è chiaro che per me è una cosa importantissima che Massimo Cariello, il nostro sindaco, è iniziato proprio con le periferie. Perché le periferie sono quelle che sono più deboli, sono quelle che hanno più bisogno di servizi ed altro. Va benissimo, allora io la ringrazio, penso che ormai siamo quasi pronti, poi ci riaggiorniamo durante il corso della serata. Allora noi a questo punto lasceremo ampio spazio a quello che sta per partire, ovvero il Consiglio Comunale. Vedo Cariello pronto e vedo seduti, schierati, alle mie spalle, se c'è l'inquadri Mario, alle mie spalle c'è tutta la giunta, partendo proprio dall'assessore Daniello, che è l'assessore alla sicurezza, e poi ancora alla sua destra Lazzaro Lenza, che è l'assessore alle politiche sociali, e poi ancora Maria Sueva Manzioni, alle attività produttive, turismo e agricoltura, e poi ancora Angela Lamonica, che è l'assessore all'istruzione, il vice sindaco Cosimo Pio di Benedetto, assessore al bilancio, ovviamente c'è il sindaco Massimo Cariello, c'è il vecchio presidente del Consiglio Antonio Petrone, poi c'è il segretario comunale Gelo Ormini, e poi ancora c'è Matilde Saia, assessore ai lavori pubblici, e infine Egno Ginetti, che è l'assessore all'ambiente e al centro storico. Credo che ormai siano davvero in procinto di iniziare, come vedete poi ci sono anche i consiglieri comunali schierati da un lato e dall'altro della sala, diciamo in questo chiostro meraviglioso, che è il chiostro di San Francesco, quindi un segnale importante che viene dato alla cittadinanza, perché è un luogo storico, è un luogo di grande valore, di grande tradizione, quindi vediamo che sono schierati all'interno del chiostro tutta la parte della maggioranza, al lato destro del sindaco, quindi i consiglieri Presutto, Fido, Busillo, Sgritta, Luigi Merola, c'è Fausto Vecchio, insomma ci sono un po' tutti, e dall'altro lato, alla parte sinistra del sindaco, c'è tutta quanta invece la parte dell'opposizione, con Antonio Cuomo, che è appunto il candidato sindaco del ballottaggio, che poi ha dovuto cedere il passo a Massimo Cariello, perché poi la vittoria è andata proprio al candidato sindaco Massimo Cariello. I punti del Consiglio Comunale all'ordine del giorno li abbiamo già snocciolati poco fa, abbiamo raccontato proprio che questa sera sarà eletto il Presidente del Consiglio, e c'è qualche dubbio in merito, alcuni consiglieri invece sono sicuri che i due terzi del Consiglio Comunale riuscirà a votare il Presidente, che dovrebbe essere Fausto Vecchio, quindi se non ci sono sorprese, considerando anche che la votazione avverrà non in pubblico, quindi se non ci sono sorprese il consigliere comunale Fausto Vecchio diventerà il Presidente del Consiglio questa sera stessa. Poi si parlerà anche dell'incompatibilità dei consiglieri comunali, quindi se tutti quanti non sono incompatibili a fare il consigliere comunale saranno quindi riconfermati, sarà presentata la Giunta, e poi insomma vedremo se ci sono altri elementi di cui si parlerà stasera. Per quanto riguarda la Commissione elettorale, quella dovrebbe essere rinviata al prossimo Consiglio Comunale. Siamo fortemente in ritardo, dovevamo iniziare alle 18, ma credo che siano ormai quasi le 19, non ho il 3, ci manca poco. Nel frattempo ringraziamo ovviamente la regia che è nella parte, appunto nella redazione di Sud TV a Battivaglia, Giancarlo Fedoni, ringraziamo Mario Lobbianco, Luella Mazzara e tutti i giornalisti che ci daranno una mano questa sera, ma credo che a questo punto se Massimo Cariello mi guardasse riuscirei a capire se riusciamo a partire. Ma credo proprio che sia arrivato il momento, quindi sudtv.net perché non riuscisse a vedere bene la televisione, oppure canale 663 del Digitale Terrestre per seguirci in diretta. Ovviamente poi avremo modo di caricare anche su Youtube tutto questo momento che è un momento importante. La sala è piena, il chiosso di San Francesco è pieno, sono tutti quanti elegantissimi per un momento così determinante per il primo consiglio comunale che si svolge qui nel centro storico di Eboli. Penso che ci dovremmo quasi essere, ci sono ancora le ultime formalità di rito, ma ci siamo. Buonasera a tutti, invito tutti i presenti cittadini, consiglieri e amministratori ad alzarsi per l'audizione dell'inno nazionale. Grazie. 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 Prima di passare al formale svolgimento del consiglio comunale, vorrei leggere un mio primo breve intervento. Signor Sindaco, colleghi consiglieri, permettetemi innanzitutto di rivolgere il mio primo saluto e un sincero ringraziamento alle cittadine e ai cittadini di Eboli per la loro presenza a questa seduta consigliare, la prima della nuova legislatura e per la maturità dimostrata in campagna elettorale, improntato a un corretto confronto, pur in presenza di fratture e divisioni dovute in larga misura alle amministrazioni comunali precedenti. Al Sindaco indirizzo le mie congratulazioni per il successo e gli auguri per un fattivo svolgimento del suo mandato, che spero possa essere di piena discontinuità rispetto al passato recente e meno recente. Ai consiglieri comunali i miei complimenti per la loro elezione, che ne sono certo sapranno onorare in coerenza con quanto hanno dichiarato nel confronto politico e nella campagna elettorale. Oggi si apre una consigliatura che si preannunza difficile, per tutti, anche perché molto sono le attese e poche le possibilità. Solo un salto di qualità, che vada oltre le beghe e gli accordi più o meno interessati, che per anni hanno travagliato la vita cittadina e ma stracato il nostro territorio, potrà aprire una nuova fase che sia costruttiva, trasparente e incisiva per la nostra amata città. Dobbiamo dimostrare tutti di essere in grado di rispondere ai fai bisogni dei cittadini e dimostrare che a Eboli ancora si può fare politica con dignità, disinteresse, autonomia e attaccamento al bene comune. Alcuni di noi, ed io fra questi, lo faranno ancora dall'opposizione, con intenti costruttivi, disponibili come sempre a dare un contributo di merito sui problemi, a condizione che la maggioranza svolga il suo ruolo, che non è quello di compravendere le coscienze e né di distribuire prebende, come avvenuto nel recente passato. Il dato elettorale e eloquente, in un'assemblea amministrativa democratica, come la nostra appunto, i numeri hanno assoluta prevalenza. Ma deve essere chiaro a tutti, consiglieri, amministratori e cittadini, che la guida di una città non si fonda solo sui numeri. La forza delle idee e l'elaborazione di un progetto a medio-lungo termine sono elementi imprescindibili se si vuole risanare, sviluppare e innanzitutto cambiare. Elementi che possono assorgere a un valore di alto governo, solo se diventeranno patrimoni di tutti, dentro e fuori al Consiglio Comunale. Essendo riservata alla maggioranza l'amministrazione della cosa pubblica per il tramite dell'Aggiunta, è doveroso da parte mia, stante il ruolo che ricopro, non commentare le singole nonime degli assessori, anche per assicurare a tutti loro un rispetto istituzionale. Parteciperò con dedizione e impegno, insieme al mio gruppo, a verificare la legittimità degli atti di cui saranno artefici e gli effetti che determineranno nella nostra comunità, accompagnando l'opera amministrativa con proposte integrative, migliorative e anche alternative. E questo è il compito dell'opposizione, è il mandato popolare che ce lo impone. Sono certo che, insieme ai miei compagni di sempre, rispetterò questa funzione in modo determinato ed incisivo. Terremo alta la bandiera della legalità, della trasparenza e della correttezza istituzionale. Non assumeremo posizioni preconcette, perché non sarebbe utile per la nostra amata Eboli, ma non cederemo ai coinvolgimenti e a trasformismi, contro i quali lotteremo, come sempre abbiamo fatto e dimostrato, con tutte le nostre forze. Signor Sindaco, signori consiglieri di maggioranza, a voi la nostra città ha conferito l'onore e l'onere di amministrare. E da questo strano vi invito a farlo con modalità democratiche, evitando di trasformare questo consenso in una mera struttura di ratifica delle decisioni di pochi. Convido che voi vogliate percorrere questa strada, garantendo un governo trasparente, attento ai fabbisogni dei cittadini, improntato ai bisogni della democrazia partecipata e dell'etica pubblica. E' questa la vera frontiera che può unire maggioranza e opposizione e dividerla anche, nell'interesse solo ed esclusivamente della città e della buona politica. Io vi auguro un buon lavoro a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Altieri Rosa Mero Lapierluigi Infante Pasquale Rizzo Francesco La Brocca Giuseppe Bonaviglia Vittorio Cuomo Antonio Cardiello Damiano La seduta è valida per deliberare Passiamo al primo punto iscritto all'ordine del giorno Insediamento del Consiglio Comunale Subentri, esami delle condizioni di candidabilità, elegibilità e combattibilità degli eletti Articolo 41 del testo unico degli enti locali Il consigliere Cardiello chiede di intervenire per una questione pregiudiziale Prego Salvo Grazie Presidente, Sittaco, Assessori e Cittadini tutti Sì, è una questione pregiudiziale Ex articolo 42 del regolamento comunale Era mio dovere presentarla in quanto credo che l'ordine di convocazione sia stato fatto in maniera frettolosa Poiché procedendo per gradi e con la tempistica alla mano abbiamo avuto la proclamazione degli eletti in data 24 giugno Il primo luglio il sindaco ha effettuato la nomina degli assessori Il sottoscritto con protocollo 23046 sempre del primo luglio ha richiesto la verifica per la sussistenza di eventuali incompatibilità Ex articolo 41 In data 3 luglio è stata poi notificata la convocazione del Consiglio Comunale a neoletto E nell'ordine di convocazione è stato, a parere del sottoscritto, inserito erroneamente il subentro prima della verifica di incompatibilità ex articolo 41 Dico questo perché da un esame del combinato di sposta articolo 3840 e 41 del testo unico degli enti locali Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo Il Consiglio deve esaminare la verifica di incompatibilità Alla richiesta che ho prodotto non è seguita alcuna risposta ma questo sarà oggetto di un secondo mio intervento Però focalizzo l'attenzione su quello che è la giurisprudenza costante Cioè il Tar Piemonte ha stabilito con una recente sentenza che la prima seduta fissata per la convalida degli eletti Non è ammessa la partecipazione dei consiglieri subentranti per surruga E il Consiglio di Stato nell'appello ha confermato questa sentenza Sostenendo che alla prima seduta possono validamente partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti All'esito dello scrutinio e non già coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consigliare In pratica in assenza della proclamazione di candidato eletto Analogo diritto non è attribuibile ai non eletti Che pertanto sono ammessi a surrugare solo a seguito di surruga di questo Consiglio Comunale Chiede, e non voglio tediare i cittadini, di ottemperare innanzitutto a quanto previsto dall'articolo 41 al terzo unico degli enti locali Procedere prima alla verifica eventuale sussistenza di condizioni di incompatibilità E ove sussistano avviare la procedura ex articolo 69 In caso contrario si violerebbe apertamente l'articolo 41 Dico questo perché la procedura che a detta dello scrivente doveva essere osservata Era quella di convocare i consiglieri eletti e proclamati in data 24 giugno Contestare loro l'incompatibilità eventuali Entro dieci giorni poi avviare l'articolo 69 E poi riconvocare per la surruga Perché in pratica abbiamo insediato un Consiglio Comunale Con consiglieri comunali che non hanno quel requisito fondamentale della surruga Che è un atto posteriore E quindi rimetto la questione pregiudiziale all'attenzione di questa assise E consegno anche copia al segretario comunale La ringrazio consigliere Cardiello Acquisisco al tavolo della presidenza la questione pregiudiziale Che se non erro deve essere messa ai voti dell'assise comunale Però passo un attimino la parola al segretario Io credo che il consigliere Cardiello abbia confuso la surruga col subentro Sebbene la differenza è sottile Però sono due istituti diversi La surruga consegue alle dimissioni del consigliere comunale E per essere operativa Per avere efficacia la necessità Di un intervento del Consiglio Comunale Di una deliberazione che viene votata Da tutti i consiglieri comunali Viceversa il subentro è conseguente Alla incompatibilità del consigliere Che accetta la carica di assessore Per giurisprudenza costante Che io in verità non sono richiamato nella proposta Di delibera ma anche omesso agli atti dei consiglieri comunali Unitamente ad una circolare del Ministero dell'Interno Si evidenzia che per effetto della accettazione Del consigliere ad assessore Opel EGIS cessa la funzione di consigliere E Opel EGIS Quindi senza la necessità di una surruga in Consiglio Comunale Subentra il consigliere primo dei non eletti Della lista di riferimento È naturalmente una interpretazione oramai consolidata Che serve per assicurare Per garantire il funzionamento degli organi Perché evidentemente in una assemblea Come quella del Comune di Eboli Laddove ci fossero 7-8 assessori Nominati nell'ambito dei consiglieri comunali Il rischio della impossibilità di insediare Il consiglio comunale sarebbe stata piuttosto frequente Per cui Il consigliere che ha accettato La funzione assessorile Opel EGIS non è più consigliere Quindi non poteva essere convocato Né era possibile formalizzare la convalida Da questa assise E Opel EGIS Il consigliere primo dei non eletti Diventa consigliere Viene convocato regolarmente E partecipa Come ci assicura la giurisprudenza Partecipa alla sua convalida Per cui rispetto alla questione pregiudiziale Io ritengo che Tecnicamente non sia accoglibile E che invece La proposta di delibera sia legittima Così come predisposta Quindi Che è La votata Sì La votata Sì La votata 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 Volete verificare un attimino Se dobbiamo metterla ai voti Mi ricordo di chi Tecnicamente Posso leggere l'articolo Allora Vi leggo l'articolo 42,4 A seconda del momento in cui è stata presentata La questione pregiudiziale o sospensiva Viene esaminata prima di procedere alla discussione O alla votazione dell'argomento a cui si riferisce Sul merito della proposta può pronunciarsi Oltre a preponente Due oratori Di cui uno a favore e uno contro Entro il limite di tempo di 5 minuti Il consiglio decide a maggioranza Con votazione palese Quindi Credo che Damiano si sia già pronunciato In maniera a favore Se c'è un intervento Da parte della maggioranza Se no passiamo direttamente Alla votazione Sì per inviarla Per l'accoglimento sì E per il rigetto no Chi vota favorevole alla proposta pregiudiziale Vota sì Cariello Massimo No Petrone Antonio Sì Conte Antonio Sgritta Gian Maria Cennamo Cosimina Guardacino Luigi Fido Santo Venerando Domini Mario Rosamilia Filomena Vecchio Fausto Masala Emilio Presutto Giancarlo Piegari Giuseppe Marchesano Vincenzo Busillo Carmine Grasso Roberto Altieri Rosa Merola Pierluigi Infante Pasquale Rizzo Francesco La Brocca Giuseppe Buonavoglia Vittorio Cuomo Antonio Cardiero Damiano Allora con 16 no E 9 sì La proposta è stata rigettata Quindi passo la discussione Ai punti all'ordine del giorno Evito di leggervi tutti i richiami ai vari decreti degli articoli del Tuel Passo direttamente al rilevato Allora rilevato che il signor di Benedetto Cosimo Pio nato a Eboli il 27 1968 è stato nominato assessore con atto sindacale del 1 luglio 2015 Protocollo 23 077 Ed ha accettato l'anonima in pari date E pertanto per effetto della citata normativa subende il signor Marchesano Vincenzo Prima di non eletti nella lista numero 15 Avendo il contrassegno nuovo PSI Con la cifra individuale 2339 Il signor Ginetti Ennio Nato a Battipaglia Il 30 novembre del 79 È stato nominato assessore con atto sindacale del 1 luglio Protocollo 23 077 Ed ha accettato l'anonima in pari data E pertanto per effetto della citata normativa subentra il signor Domini Dammario Primo dei non eletti della lista numero 12 Avendo il contrassegno Ascolto Cittadino Con la cifra individuale di 2624 Il signor Lenza Lazzaro Nato a Chiedimonte Matese Il 23 luglio 64 È stato nominato assessore con atto sindacale del 1 luglio Protocollo 23 077 Ed ha accettato l'anonima in pari data E pertanto per effetto della citata normativa subende il signor Bonavoglia Vittorio Primo dei non eletti nella lista numero 14 Avendo il contrassegno Fratelli d'Italia Con la cifra individuale 703 La signora Saia Matilde Nata a Polla il 13 agosto del 73 È stata nominata assessore con atto sindacale del 1 luglio 2015 Con protocollo 23 077 Ed ha accettato l'anonima in pari data E pertanto per effetto della citata normativa subende il signor Masala Emilio Primo dei non eletti della lista numero 11 Avendo il contrassegno Eboli Popolare Con la cifra individuale 2.414 Invitati i consiglieri presenti a intervenire e indicare Qualora ne fossero a conoscenza Gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità al loro carico Previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 267 del 2000 Dato atto Sembra Che nessun consigliere Dichiare di essere a conoscenza di motivi di ineleggibilità o incompatibilità del sì Scusa Prego Consigliere Damiano Cardiello Semplicemente giusto 30 secondi Sindaco, consiglieri, assessori e cittadini Io in data primo luglio ho protocollato circa otto giorni fa una richiesta molto molto esplicita Indirizzata al segretario comunale e al responsabile del settore tributi L'articolo 63 del Tuel prevede determinati casi di eventuale incompatibilità Soprattutto articolo 4, 5 e 6 Sono eventuali ovviamente vanno verificate ma vanno verificate con dei mezzi che il sottoscritto né i colleghi presenti in questa assise potranno mai usufruirne perché sono dei mezzi ovviamente informatici in carico agli uffici preposti Allora non avendo avuto risposta alla richiesta protocollata e che giudico ovviamente una cosa abbastanza scorretta dal punto di vista istituzionale perché l'ho protocollata esattamente otto giorni fa Stamani ho protocollato un sollecito via fax e a mezzo pecca al fine di informarmi su eventuali incompatibilità non ho avuto risposta Chiedo seduta stante se il segretario o gli uffici preposti siano a conoscenza di eventuali cause di incompatibilità tali da poter avviare una procedura ex articolo 69 Il sottoscritto non ha problemi né di inelegibilità né di incompatibilità Passo la parola al segretario per risponderla Il consigliere Cardiello fa riferimento alla possibilità che ci possano essere le condizioni di cui è l'articolo 63 di incompatibilità All'ilà di ipotesi più evidenti credo che il consigliere si riferisca all'ipotesi in cui ci possono essere dei debiti liquidi ed esigibili rispetto al comune da parte di consiglieri che siano stati legalmente messi in mora Oppure nell'ipotesi in cui ci siano debiti liquidi ed esigibili per imposte, tasse e tributi nei riguardi o del comune o di società collegate al comune Ora per prassi oramai consolidata e credo che il presidente del consiglio a breve inviterà i consiglieri comunali ad intervenire laddove ci fosse la necessità Per prassi consolidata ciascun consigliere conosce le proprie cause di incompatibilità Non è detto che il comune possa essere nelle condizioni di conoscere Perché il servizio di riscossione coattiva è esternalizzato ad Equitalia e molto spesso i rapporti e i collegamenti con Equitalia non sono così veloci e celeri Come la richiesta del consigliere Cardiello avrebbe giustamente preteso Per cui noi in sette giorni non siamo stati in grado evidentemente di fare questa verifica Ciò detto e dopo il sollecito di questa mattina che ci è pervenuto In ogni caso il responsabile dell'ufficio raggeneria ha depositato agli atti del consiglio comunale la sua attestazione Quindi che era già da oggi agli atti del consiglio comunale Nella quale facendo riferimento alle verifiche effettuate nel corso di questi giorni Attesta l'assenza di elementi che lascerebbero presumere delle questioni di incompatibilità Leggo la nota Con riferimento all'oggetto si comunica che agli atti di questo ufficio non risulta alcuno dei casi di incompatibilità E che si articola 63 del decreto legislativo 267-2000,6 Ad ogni modo l'ufficio procederà ad inviare l'elenco dei consiglieri e del sindaco presso l'agente della riscossione di Equitalia Che gestisce l'entrata del comune attraverso lo strumento della cartella esattoriale per effettuare ulteriori verifiche Ciò significa che ovviamente la verifica che non è fattibile in sette giorni continuerà da parte dell'ufficio E siccome l'incompatibilità come voi sapete non ha effetto istantaneo Ma laddove dovesse verificarsi c'è un procedimento posto in essere dal consiglio comunale di contestazione Di controdeduzione di decisioni finali da parte del consiglio comunale C'è la possibilità laddove ci sono questi elementi ovviamente di consentire al consigliere comunale Di sanare l'ipotesi di incompatibilità Ok, grazie segretario Quindi saranno gli uffici preposti a stabilire se ci sono casi di ineleggibilità e incompatibilità Quindi acquisito anche il parere di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti Reso dal segretario generale e in questo caso anche dal dirigente del settore tributi Con voti unanimi, espressi per alzato di mano, si propone di prendere atto del subendo dei seguenti consiglieri comunali Dirò solo il nome per evitare di ripetermi nelle liste iscritti e così via Marchesano Vincenzo, Domini Mario, Bonavoglia Vittorio, Masalo Emilio Di convalidare l'elezione diretta del sindaco e dei 24 consiglieri comunali Per i quali non esistono quindi condizioni per adesso di ineleggibilità e di incompatibilità Ai sensi dell'articolo 60 Quindi Cariello Massimo, Sindaco, Petrone Antonio, Di Candia Teresa, Conte Antonio, Sgritta Gianmaria, Cennomo Cosimina, Guarracino Luigi, Fido Sando Venerando, Domini Mario, Rosamilia Filomena, Vecchio Fausto, Masalo Emilio, Presutto Giancarlo, Piegari Giuseppe, Marchesano Vincenzo, Busillo Carmine, Grasso Roberto, Altieri Rosa, Merola Perluigi Infante Pasquale, Rizzo Francesco, Labbrocca Giuseppe, Bonavoglia Vittorio, Cuomo Antonio, consigliere candidato a sindaco, Cardiello Damiano, consigliere candidato a sindaco Quindi se per alzata di mano procediamo all'elezione dei consiglieri comunali All'unanimità All'unanimità Allo stesso modo L'immediata eseguibilità Con lo stesso voto Con alzata di mano Ok Quindi passiamo Al Secondo punto Iscritto all'ordine del giorno Giuramento del sindaco Articolo 50,11 Del Tuel numero 267-2000 Passo la parola al sindaco Cariello Buonasera Io, Massimo Cariello, sindaco del comune di Eboli Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e da suo capo Di osservare realmente la Costituzione e le leggi dello Stato E da diempere le mie funzioni a solo scopo del pubblico bene Consentitemi, caro Presidente, prima di procedere anche alla votazione dell'atto deliberativo Un saluto Un saluto alla mia città Alla nostra città I consiglieri comunali Un grande in bocca al lupo a tutti Agli amici di maggioranza e di minoranza Un grazie ai tanti cittadini che sono qui presenti Ho preferito scrivere qualcosa perché è evidente che l'emozione oggi è molto più forte di altri momenti Perché oggi inizia la nostra amministrazione, inizia ufficialmente, inizia un percorso importante per la nostra città Per questo questa sera per me è una grande emozione essere qui In qualità di primo cittadino della città di Eboli E l'emozione si fa ancora più forte, ne vedevi in tanti, in questo luogo importante, storico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale La presenza di tanti cittadini a questa assise pubblica rappresenta ancora di più un auspicio importante per la nostra città E per il lavoro che noi ci apprestiamo a svolgere Anche questa cornice significativa E abbiamo voluto che si celebrasse all'interno di questa assise, di questo luogo Già svoltosi in passato, ma che credo rappresenti l'emblema della storia, della cultura, della cittadina Io non voglio qui elencare tante emozioni e anche ormai il passato, credo, giusto e entusiasmo della campagna elettorale Che mi legheranno per sempre dei ricordi indelebili Dei ricordi non solo del festeggiamento del giorno dopo, ma di quello che è stata la nostra vittoria, la nostra conquista Il nostro inaspettato risultato Ma vorrei anche parlarvi degli anni, degli anni che mi hanno portato a fare politica Dei miei ultimi trent'anni Che ho vissuto come cittadino attivo prima, come politico dopo Sempre all'insegna dell'impegno per la nostra amata città Io la prima volta che mi sono seduto qui all'assise, ero a posto di Antonio Petrone Ero dall'altra parte, avevo quasi la stessa età di Antonio, avevo 29 anni L'emozione era tanta Avevo anche tanti capelli allora, oggi ne ho molti meno Ma oggi, dopo tanti anni, io sono qui da sindaco, da primo cittadino E quella passione, quell'entusiasmo che avevo allora, lo porto con me oggi Lo porto ancora di più in questo momento E da allora, come oggi, come sempre, come tutte le attività politiche che ho svolto Come tutti i ruoli istituzionali che ho svolto anche da semplice cittadino Per me Ebole è sempre stato il centro della mia azione politica E forse per questo motivo che avverto forte e potente Quello senso di responsabilità per il ruolo che oggi io ricopro E che voi mi avete, che avete voluto che io lo ricoprissi Un senso di responsabilità nei confronti di Ebole, del suo passato, del futuro Che merita e che insieme abbiamo immaginato Incontrandoci in questa campagna elettorale, nella nostra coalizione Nella presentazione del nostro programma Un senso di responsabilità che nutro nei confronti di tutti i cittadini ebolitani Di tutti i cittadini ebolitani E non solo di coloro che mi hanno votato, che mi hanno sostenuto Ma di tutti coloro che in questo momento rappresentano anche l'assise consigliato Guardate, la parola sindaco è una parola importante, una parola pesante In greco significa amministratore di giustizia E io cercherò, cari cittadini, di essere interprete fedeli di questo significato così nobile In ogni, qualsiasi occasione che mi sarà consentita Questo senso di responsabilità è e sarà per me sprono quotidiano a fare bene A fare sempre meglio e a fare sempre di più E tale sarà anche per gli assessori della mia giunta E dei miei consiglieri eletti nelle liste che mi hanno sostenuto Lo è anche per coloro che mi hanno accompagnato in questa campagna elettorale Anche coloro che ci sono candidati e che non sono stati eletti E che sono alla pari dei miei consiglieri comunali e alla pari dei miei assessori L'ho detto poco giorni fa, proprio nella presentazione della conferenza stampa Stiamo già lavorando duramente e non abbiamo chiesto Non chiederemo nessuno di noi vacanza per quest'estate Perché questo sarà un'estate importante, un'estate calda Noi siamo già al lavoro per stabilire in maniera ragionata ed opportuna Quali siano le priorità a cui mettere mano Per partire, cari Ebolità Anzi, per ripartire questa sede Perché simbolicamente questa sede Ebolip riparte Riparte dalla sua glorosia storia Di cui la bellezza di questo luogo ne è la vera testimonianza Riparte da un nuovo concetto di governo Del territorio in cui a fianco ai servizi comunali Ha un ruolo fondamentale quella rete sociale Formata dai tanti soggetti, dalle tante associazioni Che a vario titolo operano in questa nostra comunità Quel ruolo di tutti i cittadini che si sentono di farne parte Dei cittadini tutti Per i quali il portone di Ebolip è stato e sarà sempre aperto Già da questi primi giorni E sono felice che questo nuovo modo di interpretare Il governo della città come azione condivisa Tra amministratori e cittadini Sia stato già recepito Sia stato apprezzato E sia stato messo in pratica Lo dimostra il fatto che da un mese a questa parte Gruppi spontanei di cittadini Si organizzano per realizzare insieme iniziative Che mirano alla riscoperta dei nostri luoghi storici Alla creazione di strumenti di sostegno reciproco Mi riferisco a quello che sta accadendo nel centro storico Quello che sta accadendo sull'Emice Dove si sta cercando di dare vita a uno dei luoghi più belli della città La zona degli antichi mulini La eboli che sogno E per la quale mi sono impegnato E continuare ad impegnarmi è questa È questa la nostra eboli È la città del fare La città del fare insieme cari ebolitani È una città in cui gli amministratori A partire dal sindaco Sappiono essere fisicamente accanto ai cittadini ebolitani Allora quando se ne presenti la necessità È una città in cui ciascun cittadino si sente amministratore E in cui gli amministratori non dimenticano mai di essere prima di ogni altra cosa Semplici cittadini Chiamati ad una responsabilità in più Che è quella di governare Confrontandosi sempre E sottolineo sempre con il resto della nostra città Con chi cioè ha voluto Eleggerli a loro rappresentanti Proprio come sta avvenendo in questi ultimi giorni Sapevamo e sappiamo Che la situazione da cui partire è difficile Da punto di vista economico, finanziario Ma anche da punto di vista sociale Eboli si trova nella condizione di dovere Al più presto far quadrare i conti del bilancio comunale Ma anche la necessità di costruire Di ricostruire un concetto fondamentale Quello della comunità Una comunità attiva e solidale Che collabora, che partecipa, che suggerisce Che chiede sia aiuto a chi amministra Ma che dà aiuto al territorio quando è il caso di farlo Gli eboritani stanno già dimostrando concretamente Di voler essere tutto questo E io ne sono orgoglioso Se è vero come è vero Che la storia la scrivono gli uomini Io sono convinto Che insieme noi amministratori Voi cittadini Possiamo portare avanti Una nuova storia per la nostra amata città Una storia che sarà frutto di entusiasmo Di speranza, di impegno quotidiano Ma soprattutto una storia Che sarà fatta di azioni concrete In cui il valore delle parole Confronto, ascolto, dialogo Partecipazione, apertura Giustizia, trasparenza Sia il nostro valore aggiunto Il valore caratterizzante Che saprà fare la differenza rispetto al passato Perché queste parole Cari cittadini e cari cittadini Saranno comandamenti per la nostra maggioranza di governo Anche nel rapporto verso l'opposizione Che non considereremo mai negativamente a prescindere Perché crediamo che la dialettica Anche accesa Tra le parti che si contrappongono E il confronto Anche serrato Tra i modi diversi di intendere Sia un alimento sostanziale Per la vera democrazia Strumento di crescita per ogni società E per ogni comunità Così come ho apprezzato molto L'intervento del Presidente Pro Tempore Del senso di unità E di maturità dimostrato questa sera E te ne ringrazio Antonio Ad Eboli si respira un clima di grandi attese E di grandi aspettative La fiducia che gli ebolitani ripongono Nella nostra azione è palpabile Le richieste di incontro sono tantissime In comune, per la strada Non c'è un cittadino che non mi chiede a cinque minuti Per parlare di qualsiasi cosa che lo riguarda Che sta a cuore a lui e alla sua città Io lo sapete e non mi sottrago Anzi, piano piano riusciremo ad ascoltare tutti A recepire tutte le stanze Per poter ragionare insieme Sulle soluzioni possibili Non so se riusciremo a trovare la soluzione Ad ogni singolo problema Che voi cittadini ci porrete Ma so con certezza Che lavoreremo all'acclamento Per non deludere la vostra fiducia Per lasciare un segno positivo e concreto Nella città e nella comunità Il segno del vero cambiamento Da qui a cento giorni avremo un quadro ancora più chiaro Porteremo qui, in piazza, i risultati Porteremo anche quello che saranno le priorità Sui temi più urgenti E so con certezza Che di questo nuovo corso per la nostra amata Eboli Noi e voi cittadini In uguale misura Saremo protagonisti attivi ed artefici Del futuro della nostra città Eboli riparte, cari cittadini Riparte da qui Riparte da stasera Dalla ebole antica Che guarda a quella di domani Riparte dall'entusiasmo E dalla voglia di partecipazione attiva Che voi ebolitani state dimostrando Riparte dal passato Che incontra il presente Per andare verso il futuro Il futuro che è tutto E di tutti gli ebolitani Il futuro che sapremo conquistarci Rimboccandoci le mani Per un nostro futuro Per la nostra città Di un futuro meraviglioso Grazie a tutti Ringrazio il sindaco Cariello Tranquillizzo sul giuramento Non c'è votazione Anche perché i cittadini Già hanno deciso Da chi essere governati Passiamo al terzo punto All'ordine del giorno Elezioni del Presidente Del Consiglio Comunale Articolo 40,2 Dal regolamento Bisogna nominare Due scrutatori Di prassi Ne sono sempre stati Consiglieri Più giovani Uno di maggioranza Credo sia Piegari E l'altro Della minoranza Che credo sia Il consigliere Cardiello Quindi Se vogliono occupare Si procede al voto Si prepari Petrone Il voto è segreto Credo che ci sia la La cabina L'urma è qua C'è un tavolo Sì? Ok Grazie Grazie Scusate Allora Si prepari Il consigliere Di Candia Vabbè Sì 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 Ho capito Ho capito Ok Quindi invidi i consiglieri A dirigersi Verso la Gabina Elettorale Di Candia Ha votato Si prepari Conte Ok Consigliere Conte Ha votato Si prepari Sgritta Gian Maria Grazie Grazie Ok, il consigliere Sgritta ha votato, si prepara Cennomo Cosimina. Avremo bisogno di qualche minuto perché i consiglieri singolarmente si recano nella cabina elettorale per esprimere la propria preferenza rispetto alla presidenza del Consiglio. Ovviamente la maggioranza in questo momento spera di riuscire a nominare stasera stessa, quindi in prima battuta, il consigliere Fausto Vecchio come presidente del Consiglio. Ovviamente per riuscire a raggiungere questo obiettivo è necessario che i voti per Fausto Vecchio siano almeno 17. In teoria, considerando che 16 sono i 15 consiglieri di maggioranza più il sindaco, quindi si arriva a un numero di 16, il 17esimo voto potrebbe essere quello di Giuseppe Labbrocca. Però ovviamente la votazione è segreta, di conseguenza la certezza matematica assoluta non si potrà avere se non quando verranno poi letti tutti i voti e quindi si vedrà se effettivamente qualcuno dell'opposizione avrà votato per il presidente del Consiglio Fausto Vecchio che in questo momento è seduto tra le fila della maggioranza. Per cui questa fondamentalmente è la votazione più importante, il momento più importante perché il ruolo del presidente del Consiglio che è quello di mediare un po' tra maggioranza e opposizione è un ruolo molto ambito. Ovviamente è impossibile che possa venire fuori un nome dell'opposizione in questo momento considerando che la maggioranza relativa non sarebbe possibile raggiungerla per l'opposizione. In ogni caso, se alla prima votazione non si raggiungono i 17 voti per Fausto Vecchio, non verrà eletto in prima battuta. Poi si arriverà alla maggioranza relativa, ma questo poi in un secondo momento. Quindi si aspetta il 17esimo voto per Fausto Vecchio, bisogna capire se effettivamente qualcuno dell'opposizione, che vedete tra l'altro alle mie spalle, voterà o meno per Fausto Vecchio. Quindi seguiamo le fasi ancora della votazione e poi ritorneremo per commentarla insieme. Vito adottato, segretario pari, consigliere Domini, Mario. Il consigliere Domini ha votato, si prepara il consigliere Rosamilia. Il consigliere Rosamilia ha votato, si prepara il consigliere Vecchio. Il consigliere Vecchio ha votato, Masala. Dopo Masala si prepara il presutto. Consigliere Masala ha votato, dopo il consigliere Presutto si prepara il piegare Giuseppe. Consigliere Presutto ha votato. Il consigliere Piegari ha votato, si prepara il consigliere Busillo. Il consigliere Marchesano ha votato, si prepara il consigliere Grasso. Si prepara il consigliere Artieri con una premessa, deve andare dietro l'urna per esprimere il voto. Il segretario mi sollecitava... Vabbè, comunque, il segretario ci sono consegnati i biglietti, il voto era anche esprimibile dal... Sì, prego, consigliere Busillo. Buonasera a tutti. Io credo, come questione, che votare dal posto pregiudichi le prerogative dei consiglieri comunali e vada in palese violazione del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, laddove prevede che il voto sia segreto. Solo questa manifestazione e poi la valutazione al presidente del consiglio protempore. Grazie. Caro consigliere Busillo, ho sellecitate più volte i consiglieri di minoranza che mi chiedono anche la possibilità di intervenire. Passo la parola al consigliere Cuomo. Probabilmente tutto il contrario, perché siccome noi diamo un segnale di massima trasparenza e la posizione del gruppo del PD è una posizione di votare scheda bianca, noi lo possiamo fare direttamente... Si preparate. Grazie. Mi scuso con il sindaco Cariello, lui è il primo delenco, l'ho saltato per un errore mio di lettura e lo invito a votare. Grazie. Ok, consigliere. Il sindaco Cariello ha votato, Cuomo e Cardiello. Ok, tutti. Sì, chiede la parola il consigliere Presutto. Presidente, mi scusi, il regolamento è chiaro, parla di voto segreto. Loro votando, facendo una dichiarazione di voto, condizionano il voto di altri consiglieri comunali e sinceramente questo è il regolamento per quanto mi riguarda. Quindi, legga bene il regolamento e poi decidiamo. Vabbè, io procedo, ormai abbiamo tutti espresso la nostra preferenza, chi in bianco, chi ha espresso la singola, quindi procedo allo sfoglio dell'urna per verificare i voti. Vecchio. 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 Bianca. Vecchio. 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 Vecchio Fausto. Bianca. Vecchio. 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 Vecchio, 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 bianca, vecchio, 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 vec Le bianche, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 vecchio e 9 bianche. Con 16 voti al consigliere Fausto Vecchio dichiaro il consigliere eletto presidente del consiglio. Grazie mille. 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 che con il loro voto mi hanno dato non solo la fiducia, ma la possibilità di ricoprire questa importante carica. Essi rappresentano per me un monito a non dimenticare che la fiducia va ripagata e mai traditta. Ma il mio pensiero è rivolto anche a coloro che non hanno voluto omaggiarmi del loro consenso, qualunque sia il motivo. Saprò lavorare per conquistare e meritare anche la loro fiducia. Un ringraziamento personale a chi quotidianamente si fa carico delle mie preoccupazioni, lasciando a me le gioie la mia famiglia. Un particolare ringraziamento lo devo al nuovo sindaco, dottor Massimo Cariello, con la sua vittoria per me sia aperta la possibilità di ricoprire questa prestigiosa carica. Grazie. Al sindaco e ai nuovi assessori formano i migliori auguri di un proficuo lavoro per il bene della nostra città. Dal popolo vi è stata una chiara indicazione della volontà di cambiare. A deboli dopo più di venti anni il popolo ha scelto di voltare pagina e ha votato per il cambiamento. Esiste concretamente la possibilità di fare di più e meglio per la nostra città e noi dobbiamo essere gli interpreti di questo cambiamento richiesto dai cittadini. Il nostro Paese, la nostra città, stanno attraversando un periodo negativo, una fase economico-sociale particolarmente difficile, con la crisi che attanaglia le famiglie, i lavoratori, i pensionati e che rischia di pregiudicare il futuro delle nuove generazioni. Forse per la prima volta nella storia rischiamo di lasciare ai giovani un mondo peggiore di quello che i nostri padri hanno lasciato a noi. Ci sono problemi, emergenze che dobbiamo affrontare tutti insieme, con grande dedizione ed energia, con la convinzione di fornire risposte esaustive. Il popolo che ha votato per il cambiamento si attende risposte celeri. La collettività si aspetta da noi la risoluzione di problemi annosi mai risolti. Vuole anche che la politica finalmente si occupi di migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Consentitemi ancora di ringraziare i tantissimi elettori che mi hanno permesso di ricoprire la carica di consigliere comunale per la sesta volta. Grazie agli amici di sempre, a quelli nuovi che mi sono stati vicino in questa importante tornata elettorale. Senza il loro apporto non sarei stato qui ad iniziare questa nuova autorevole esperienza politica. Sarò, come è doveroso, il presidente di tutti, maggioranza e opposizione. Tutti i consiglieri comunali, specie quelli alla prima esperienza, come le donne appena elette, dovranno sentirsi garantiti nell'espletamento pieno del loro mandato. Io, da parte mia, assicurerò l'effettivo rispetto dei diritti di ciascun consigliere. Avverto pienamente la responsabilità del compito che mi è stato affidato. La consapevolezza di rappresentare il Consiglio comunale e, di conseguenza, l'intera comunità ebolitana. Ciò significa per me rappresentare l'insieme delle attese e delle aspirazioni dei nostri concittadini. L'impegno mio, credo di poter dire dell'amministrazione e dell'intero Consiglio comunale, deve essere indirizzato al superamento delle difficoltà degli ebolitani e alla realizzazione delle loro speranze. Il Consiglio comunale, appena eletto al quale rivolgo un rispettoso saluto, presenta elementi di novità e di cambiamento. La riduzione del numero dei consiglieri attribuisce a ciascun membro di questa assise un maggiore prestigio. Vi è la più alta percentuale di donne della sua storia e il popolo ha eletto tanti giovani consiglieri. Si tratta di un risultato prezioso di cui dobbiamo essere orgogliosi, che non va nascosto dietro polemiche e conflitti. I giovani consiglieri sono portatori delle speranze e delle attese dei propri coetanei. Rappresentano anche capacità di critica e a volte di indignazione, ma soprattutto essi sono il motore del cambiamento di cui questa città ha bisogno. Ai giovani chiedo di dare un forte contributo per ritrovare quel senso di comunità che questa città sembra aver sbarrito, senza dimenticare l'essenza del mandato consigliare. Intendo dire che nell'aula consigliare non siamo espressione di una parte della società o di interessi particolari, ma rappresentiamo il popolo ebolitano nella sua interezza. Non dimentichiamo la lezione di Alcide De Gasperi, secondo cui la politica è servizio e noi siamo al servizio della nostra città. Nel nostro piccolo dobbiamo favorire il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Solo intendendo la politica come un servizio rivolto al cittadino. Possiamo ridare fiducia a coloro che avvertono le istituzioni lontane ed estrane. Tocca a noi assumerci questa grande responsabilità. Le donne presenti, mai così numerose in Consiglio e nella Giunta, sapranno impegnarsi, ne sono sicuro, per assicurare a se stesse la piena inclusione in ogni ambito della vita lavorativa e di quella sociale. Il mio impegno sarà atteso anche a rilanciare la funzione del Consiglio Comunale, quale organo in cui si assumono le decisioni più importanti per lo sviluppo del Paese e quindi per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Modificheremo gli strumenti che regolano l'azione degli organi politici e istituzionali. Occorre revisionare lo Statuto Comunale, approvato 13 anni fa, che ha subito solo lievi modifiche nel tempo, l'ultima delle quali nell'anno 2011. Occorre eliminare le parti obsolete ed integrarlo con nuovi precetti che favoriscano celerità delle decisioni e partecipazione dei cittadini alle scelte di governo. È necessario redigere un nuovo regolamento comunale che tenga conto anche dello sviluppo tecnologico. Oggi è cambiata la comunicazione, esistono strumenti veloci che ci impongono di accelerare i tempi delle decisioni. Ciò non significa che le decisioni saranno prese con leggerezza, ma piuttosto che forse la vecchia struttura e le procedure in vigore non si adattano alle richieste di un mondo che cambia molto in fretta. Occorre fare in modo da preservare le regole democratiche, lanciando ai cittadini un segnale di estrema concretezza. Consentitemi, anche il Consiglio Comunale deve dare un impulso al cambiamento. Eboli ha bisogno di un'assemblea agile dove si prendono decisioni per il futuro dei cittadini, evitando parole inutili e spesso noiose. Badando invece alla concretezza e al realismo delle proposte in campo. I gruppi politici avranno tutto lo spazio democratico possibile, ma sarà bandito tutto ciò che è inutile per la nostra comunità. Chiedo perciò ai consiglieri di rispettare l'Assemblea, i colleghi, ma soprattutto i cittadini, anche nello svolgimento degli interventi in Consiglio. La qualità degli interventi dei consiglieri comunali determinerà la qualità e il livello dell'Assemblea consigliare. Mi adopererò per portare il Consiglio Comunale nelle case degli ebolitani che non possono partecipare all'Istituto dei consigli comunali. Farò in modo da trasmettere il Consiglio attraverso dirette streaming oppure useremo altri mezzi di diffusione. Infine rivolgo un saluto al Segretario Comunale, ai dirigenti del Comune e a tutti i dipendenti comunali. Sono sicuro di poter contare nello svolgimento del mio incarico sulla loro capacità e sulla loro disponibilità. Vi vedo qui presenti, siete figure indispensabili per fornire e migliorare i servizi per il cittadino. Da voi dipende l'efficacia dell'intera macchina comunale. Con tanti di voi ho collaborato ed ho avuto modo di apprezzarne le capacità. Sono sicuro che se il personale del Comune sarà adeguatamente stimolato, valorizzato e responsabilizzato, saprà essere all'altezza del nuovo lavoro che dovremo fare insieme nell'interesse della città. Sono convinto, dicevo, che l'Aula Consigliare sia il luogo in cui attraverso il dialogo e il confronto, anche serrato quando è necessario, si possa e si debba contribuire al progresso della nostra comunità. Naturalmente non mi limiterò ad essere il notario o l'arbitro del Consiglio Comunale. Sarebbe una limitazione che non posso permettermi. Svolgerò in pieno le mie funzioni anche fuori dal Consiglio, chiedendo lo stato di attuazione delle deliberazioni e delle emozioni consigliari. Impegnerò i dirigenti comunali chiedendo atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività dell'amministrazione, sempre tenendo informati i gruppi consigliari. Saprò meritare la fiducia che i cittadini e il Consiglio Comunale mi hanno accordato, con la dedizione, la passione, l'umiltà e il coraggio di sempre. Ancora grazie per avermi dato, anche con un risultato storico, questa grande opportunità di servire la mia città. Grazie. Passiamo al successivo argomento, all'ordine del giorno. Buonasera, signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, colleghi consiglieri, vi prego di scusarvi se, in modo forse rituale, prendo la parola dopo l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dopo il suo brillante intervento. Mi soffermerò solo qualche minuto per rappresentare a questa torrevole assemblea le motivazioni di una nostra scelta. Colleghi consiglieri, abbiamo appena eletto il massimo esponente di questo organismo, il Consiglio Comunale, che nel suo plenum rappresenta l'intera collettività. Una figura quella del Presidente, non solo di rappresentanza, ma anche un soggetto con il compito primario di titolare i diritti e le prerogative dei consiglieri, generando l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Ma per di più? Infatti, se da una parte egli promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, dall'altra esercita una funzione importantissima, la verifica e controllo sulle attività dell'organismo amministrativo, degli uffici comunali, degli enti, da essi dipendenti. Capire benissimo che per l'esercizio di queste funzioni sono richiesti doti particolari, e cioè esperienza politica e amministrativa, equilibrio e senza delle istituzioni, capacità di sintesi, di ascolto e di dialogo. Beh, non è stato difficile per noi consiglieri di maggioranza individuare le persone in grado di assicurare tutte queste caratteristiche. È certo che altri colleghi, sia di maggioranza che di minoranza, avrebbero potuto svolgere queste funzioni con pare dignità. Tuttavia, la nostra scelta è caduta sul consigliere avvocato Fausto Vecchio. Un uomo di provata esperienza politica, un professionista competente e affermato, una persona che si è sempre sottoposta al giudizio popolare, ricevendo sempre grandissimi consensi personali, ogni volta che è stata proposta una sua candidatura. Un uomo che conosce bene il significato della parola rispetto, soprattutto in ambito politico. Insomma, la persona giusta al posto giusto al momento giusto. Permettetemi, però, di esprimere un appunto di rammarico per il fatto che questa scelta non sia stata condivisa anche da una consistente parte della minoranza. Sarebbe stato un segno di grande rispetto per l'istituzione che rappresentiamo. Ciò nonostante non si affevolisce l'autorevolizza e il prestigio di questa carica, così come sono convinto che il Presidente saprà instaurare rapporti di proficua collaborazione politica e istituzionale con ciascuno dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Sono però certo che tutti noi sapremo apprezzare l'indubbia capacità del nuovo Presidente, la sua serietà, la sua imparzialità, per mezzo delle quali dovrò guidare l'edificio monte degli affari istituzionali. Grazie Fausto, grazie Presidente, grazie per tutto ciò che fai per noi e grazie a tutti i colleghi e consiglieri, a nome mio personale e del gruppo che rappresento. Ringraziamo il consigliere Fido. Ci sono altri interventi? Consigliere Antonio Cuomo. Ne ha facoltà. Grazie, buonasera. Io faccio innanzitutto a nome mio e a nome del gruppo DPD gli auguri al Sindaco, all'amministrazione e in ultimo al Presidente del Consiglio. La nostra posizione di votare scheda bianca non è un dato negativo ma è un dato di attenzione e di trasparenza, perché se vogliamo veramente con i fatti e non solo con le parole dare una svolta a questa città, credo che il modo migliore che possiamo fare è quello di dimostrarlo con atteggiamenti che siano sempre all'insegna della trasparenza e della lealtà. Vedete, miei cari consiglieri e concittadini, visto che siamo all'inizio di questa consigliatura, io ho apprezzato gli spunti che ha proposto Damiano Cardiello nel sottolineare qualche dubbio sulla interpretazione dell'insediamento del Consiglio regionale. Ma io penso che nulla da togliere a Damiano penso che in questo momento dedicato per il nostro Paese conta di più essere sostanziosi che formali. Noi faremo un'opposizione molto responsabile nell'interesse della città perché dimostreremo che sappiamo servire la nostra città e la nostra comunità anche dai banchi dell'opposizione. Però nello stesso tempo saremo rigorosi rispetto alle cose che bisogna fare per la nostra città. Io è vero ritorno in Consiglio Comunale dopo 25 anni, mi sono dimesso nel 1990, subentrò l'attuale Presidente del Consiglio all'epoca, al mio posto, e ritorno in Consiglio Comunale. Certo avrei voluto ritornarci in un'altra veste, però i cittadini hanno deciso così. Io prendo atto del loro consenso, del loro giudizio, del loro impegno verso la proposta alternativa che è quella di carirlo e credo che col passare dei mesi, con il passare degli anni di questa consigliatura avremo anche modo di chiarire tutto quello che serve per questa città. Ho letto tra le dichiarazioni, io penso che sia giusto non avere pregiudizi né nei confronti del sindaco né nei confronti degli assessori perché la cosa migliore è giudicare dopo avere la consapevolezza di capire se chi è preposto ad un ruolo, ad una competenza lo sa fare e lo fa nell'interesse della città. Quindi io mi sento di dire a nome anche del gruppo del PD di allungare i 100 giorni perché probabilmente i 100 giorni sono pochi per dare una svolta a questa città perché lo stato di salute della nostra città è pessimo, è pessimo per tanti motivi, per le condizioni economiche generali, per la restrizione del trasferimento dei fondi da parte dello Stato, per tutta una serie di condizioni che si sono verificate in questi anni, è pessimo perché c'è mancato una visione di una città che doveva crescere con regole e con norme nuove che sono state approvate negli ultimi anni. Io ho lasciato una città produttiva nel 1990, una città che era appunto di riferimento della Piana del Sede, sia politica sia produttiva. Oggi troviamo una città che sta in ginocchio, una città che boccheggia, che vive con ansia, con grande difficoltà. Mi sento di dire al sindaco, giustamente lui dice io inizio il mio mandato da stasera, mi sento di dire al sindaco e lo dico a prescindere da ogni valutazione personale, a prescindere da tutto quello che è successo nella campagna elettorale, perché appartiene al gioco della politica, la campagna elettorale, di fare meno parole, di dire meno cose in pubblica e di lavorare di più sul comune. E lo dico anche alla presenza della stampa, cito un esempio, lo farò quando lui presenterà la relazione programmatica. Io sono preoccupato soprattutto per le sort del nostro ospedale. Io ho letto che c'è stato un incontro in cui si parla della soluzione verso gli ospedali eboli battipagli e cioè che si comincia ad andare verso i primari unici. Vedete, e lo dico soprattutto ai cittadini, e questo chiudo perché poi mi riservo nella relazione programmatica insieme ai miei colleghi di gruppo di svolgere poi un lavoro più dettagliato. vedete, quando io lanciai nel 2008 l'idea dell'ospedale unico tra eboli e battipaglia, lo feci per un'unica preoccupazione, perché un politico deve avere la condizione e la percezione di guardare oltre il dito, di guardare in lontano. E quando mi trovai a visitare l'ospedale del mare a Napoli, nelle funzioni di vicepresidente della commissione sanità e andai insieme all'assessore dell'epoca, insieme al dirigente, chiesi ma come mai è nato questo grande ospedale del mare? E mi fu detto dall'assessore l'ospedale del mare nasce perché c'è l'esigenza, così come avviene nelle regioni del nord, già da vent'anni nel Veneto, in Lombardia, di andare verso la sintesi. Noi chiudiamo cinque ospedali cittadini di Napoli e apriamo un unico ospedale a sostituzione dei cinque ospedali con un'attrezzatura moderna, con una tecnologia moderna e con una struttura moderna, perché nasceva ex novo un ospedale al fronte dei cinque plessi messi in condizioni a dir poco inagibili anche dalla posizione logistica e di viabilità, perché la scalese, gli ingurabili, solo per arrivarci per un cittadino di Napoli era il rischio di arrivare troppo tardi, per il traffico e per tutta una serie di cose. Quindi quando seppi questa notizia pensa nella mia mente, siccome le risorse del servizio sanitario nazionale si riducono di anno in anno e anche quest'anno abbiamo avuto un abbattimento del trasferimento del fondo nazionale verso le regioni e penso che una buona politica sanitaria, sicuramente lo farà anche De Luca, proiettata negli anni futuri, andrà verso l'accorpamento, verso la semplificazione. Il primo dubbio che mi venne tra Eboli e Battipaglio è perché feci una valutazione politica tra Battipaglia e Eboli, logisticamente Battipaglia è posizionato meglio perché sta all'uscita dell'autostrada della Salerno-Reggio Calabria e sta all'imbocco di una delle strade più importanti della nostra provincia che è la Statale 18. Noi purtroppo non per colpa nostra ma per la posizione storica degli anni passati abbiamo il nostro plesso ospedaliero che sta posizionato in un posto che è difficilmente accessibile anche alla luce della trasformazione della società, del mondo, delle automobili che aumentano sempre di più perché c'è un dato Istat che porta quasi per ogni abitante un'auto, quindi ho pensato a questo. Ho pensato che Battipaglia era una città più grande di Eboli, ho pensato che erano due ospedali doppioni, tutte e due con gli stessi reparti. Alla luce di questo ho detto se non vogliamo che nel prossimo futuro, nei prossimi dieci anni ci troveremo così come è successo con l'Enel, così come è successo con il Tribunale, così come è successo con tutta una serie di servizi che il Comune di Eboli aveva per la sua storia, ho pensato noi rischieremo che da qui a 5, a 10, a 15 anni possiamo perdere l'ospedale e lanciare la proposta dell'ospedale unico a Eboli Battipaglia che resta, lo dico al sindaco e gli dico soprattutto di mettere più attenzione rispetto a questa situazione, resta l'unica possibilità per salvare la cultura sanitaria della nostra città perché da qui a qualche anno quando andranno in pensione i nostri primari autorevoli, D'Angelo, Occhiofino, Iovino e qualcun altro, noi ci troveremo senza accoggercene la chiusura del nostro ospedale perché ci diranno dal livello regionale e dal livello nazionale che l'ospedale unico di fatto si è già costruito, si è già insediato nell'ospedale di Battipaglia e vedete lo stanno ristrutturando con una scelta mia fatta dalla passata gestione sanitaria, quella del direttore che sta lasciando che è squillante e nel ristrutturarlo io che qualche volta ho qualche diffidenza penso che è un modo per dire da qui a qualche anno guardate è inutile spendere nuovi fondi per fare un plesso nuovo, abbiamo già l'ospedale e lì i primari si trasferiranno lì, alcuni dei parti, quei pochi che rimangono si trasferiranno lì perché non ci possiamo permettere come servizio sanitario regionale spendere 250-300 milioni di euro per costruire un nuovo ospedale e l'altra cosa che ci tengo a precisare su questo appunto ed è un messaggio di collaborazione che lascio al sindaco questa sera su questo aspetto perché io ci tengo sull'aspetto della sanità, vedete noi abbiamo fatto un casino, si è costituito a Eboli il comitato delle mamme per la vicenda dell'ostetrice e per la vicenda della pediatria, sono passati un anno e un anno e mezzo, ci sono stati sei mesi di battaglie, di scioperi, di manifestazioni ma di fatto la pediatria e l'ostetrice stanno a battipacchi e di fatto i nostri bambini, spero mai ma qualche volta che qualche bambino di Eboli ha bisogno di una cura urgente va a battipalla, si è abituato voi o non voi, non vorrei che nel corso dei prossimi anni se non alziamo subito immediatamente una barriera rispetto a questa politica che è subitole rispetto alla nostra tradizione sanitaria e rispetto alla nostra capacità io consiglierei al sindaco di Eboli di intervenire velocemente rispetto alla vicenda che ho letto sul giornale di questa ipotesi primaria perché a mio giudizio è un'altra tappa, è un altro passaggio verso la chiusura dell'ospedale di Eboli, lo dico senza polemica, lo dico per aprire gli occhi al consiglio comunale, all'aggiunta e in primis al sindaco, mi avvio le conclusione perché mi riservo di parlare nella relazione programmatica, allora sindaco io sono convinto che Eboli ha bisogno di un'amministrazione che deve dare la svolta, le faccio un altro passaggio, le do un altro consiglio, dia subito un segnale di discontinuità, onestamente senza remore e senza polemica e con la schiettezza che mi contraddistingue in questi pochi giorni, ma sono tutti a tuo favore perché capisco che insediarsi dopo tutto quello che è successo non è facile avere un attimo il quadro della situazione, ma io percepisco e mi auguro che sia solo una percezione e che con i prossimi 100, ma io dico 200 e 300 giorni, credo che siamo nell'albio della continuità anche rispetto a delle situazioni che ho letto sul giornale, a me non piace criticare, non sono un uomo plateale, non sono un uomo di spettacolo, io sono un uomo che piace e credo che col gruppo del PD lo faremo con grande passione lavorare sui problemi, sulle carte perché gli appuntamenti per la nostra città si vingono se arriviamo prima delle scadenze, se arriviamo prima che arrivo qualcun altro, se arriviamo prima con idee chiare anziché con proclami che non hanno nulla a che fare per il futuro e con l'interesse della nostra città. Io mi fermo qui, ripeto, rifaccio gli auguri all'amministrazione, al Presidente del Consiglio e al Sindaco e spero perché c'è sempre una prima volta che non sia questa una routine così come è stato cinque anni fa e poi ci hanno portato nel baratro perché il nostro comune vive una situazione di grande difficoltà e che probabilmente da qui a qualche mese o forse da qui a qualche anno possiamo cominciare a tracciare qualche passaggio positivo che dia la speranza di guardare un orizzonte migliore per la nostra città. Grazie. Ringraziamo l'onorevole consigliere Antonio Cuomo, il Consiglio si avvarrà della sua importante esperienza politica anche se per lui sembra che potrebbero riaprirsi le porte del Parlamento, gli facciamo un in bocca al lupo. Chi chiede la parola? La parola al consigliere Giancarlo Presutto invitandolo ad attenersi all'ordine del giorno. Sì, certamente Presidente, il mio è un semplice augurio, un augurio al nostro Presidente Fausto Vecchio che ha svolto in questa carriera trentennale, se non sbaglio, un ruolo per la città fondamentale, ha lavorato tanto e te lo meriti, il gruppo consigliare del nuovo PSI è al tuo fianco, sta al tuo fianco nei prossimi giorni e nei prossimi anni. Ti aspetto un compito ardo, hai un onore e un onere. Noi siamo qui a sostenerti e noi ti abbiamo voluto fortemente perché sei l'unico che oggi può rappresentare questo consenso civico nella nostra città. Grazie. Ringraziamo il consigliere Presutto. C'è qualche altro consigliere che intende intervenire? Consigliere Sgritta, ne ha facoltà. Signor Sindaco, signor Presidente, signori consiglieri, il gruppo consigliare di ascolto cittadino intende formulare i più sentiti ed i più sinceri auguri al neoletto Presidente del Consiglio, Avvocato Fausto Vecchio. Siamo sicuri ed è il nostro forte auspicio che egli svolgerà questo importante ruolo con scrupolosità, onestà intellettuale, spirito di servizio e di rispetto del ruolo che è proprio di ogni singolo consigliere. Egli, pur essendo una persona di parte, con una precisa identità ed appartenenza, avrà il dovere del rigore, dell'equilibrio e dell'imparzialità per assicurare una diplomatica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione, consentendo a ciascun consigliere l'attuazione delle prologative a lui attribuite dalla legge e dal regolamento, per un corretto funzionamento del Consiglio Comunale. Nessuno dovrà mai sentirsi estromesso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio incarico elettivo. Ci auguriamo pertanto che il suo impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri comunali, componenti, il Consiglio Comunale, al fine di non escludere nessuno nella possibilità di sforgere al meglio il proprio mandato, attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci è affiliato. Crediamo che nessuno di noi debba mai dimenticare la distinzione che esiste fra la passione politica e il senso delle istituzioni. L'aurea consigliare è di sicuro l'ambiente naturale in cui attraverso il dialogo ed il confronto si può e si deve contribuire al progredire della nostra comunità. Grazie. Grazie al consigliere Sgritta. Ci sono altri interventi? La parola, ha chiesto la parola il consigliere Labbrocca, ne ha facoltà. Buonasera, signor Presidente, signori consigliere, signor Sindaco, giunta. Porto i saluti e gli auguri del gruppo di Forza Italia. Sono certo, Fausto, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo vissuto tanti consigli comunali, sono certo che tu sarai la garanzia del nostro Consiglio Comune. Bene, io non mi prolungo come l'onorevole Cuomo, lui abituato ai grossi discorsi, io invece voglio dire solo una cosa, io sono certo, sono certo che daremo tutti, minoranza e maggioranza, questo cambiamento che tutti si attendono perché la gente sta aspettando, la gente aspetta, la gente è stanca, la gente vuole il cambiamento e io sono certo che con questi nuovi consiglieri che vedo e con questo Sindaco e con questa opposizione cambieremo eboli. Auguri a tutti. Grazie. Grazie consigliere Labbrocca. Ci sono altri interventi? consiglieri, ci sono altri interventi? L'ha chiesto di parlare il consigliere Busillo, ne ha facoltà. Grazie. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, cittadini tutti presenti. Io credo che stasera abbiamo vissuto un momento storico per la nostra città perché al di là sicuramente delle elezioni, delle autorevoli figure del passato, stasera per la prima volta e al primo scrutino, credo, nella storia della città di Ebole, la prima volta che accade, abbiamo eletto una delle figure che la democrazia ebolitana, una delle migliori figure di spessibilità, di spessore politico e di autorevolezza, una delle migliori figure politiche che questo Consiglio Comunale potesse esprimere come Presidente del Consiglio. Sono certo che saprà far valere, saprà rappresentare tutti noi consiglieri comunali, signori di maggioranza che di minoranza, saprà far valere le nostre prerogative laddove ve ne fosse, credo che, poi non voglio anticipare il punto successivo, però credo e spero non ce ne sarà bisogno nei rapporti con il nostro sindaco e con la giunta. Sono certo che, ripeto, abbiamo fatto la migliore scelta possibile e di questo tutto quanto il Consiglio Comunale, tutta la città, ce ne sarà di certo grati. Grazie. Grazie, consigliere Busillo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, è chiesto la parola il sindaco di Eboli, la parola Massimo Cariello, sindaco di Eboli. Era solo per anche io associarmi al ringraziamento dei consiglieri comunali, ho apprezzato molto gli interventi anche dei neo capogruppi e così come anche dei consiglieri di minoranza. Io credo che questa sera abbiamo davvero raggiunto, abbiamo concluso un percorso di risultati che sono rimasti nella storia, rimarranno almeno fino ad oggi nella storia della politica ebolitana. Avere avuto l'elezione del Presidente alla prima prova elettorale è un significato importante, io credo anche rafforzativo, della maggioranza coesa e di questo voglio evidenziare questa sera. L'unità della maggioranza, l'ho dimostrata ancora una volta questa sera, non c'è stata alcuna frizione sulla scelta del Presidente del Consiglio, fortemente voluto da tutti, fortemente voluto anche da sottoscritto, perché credo, ho chiuso fortemente nella figura di Fausto Vecchio così come l'hanno creduto i gruppi consiglieri. Credo che oggi per noi inizia una nuova era anche all'interno del ruolo che dovrà svolgere il Consiglio Comunale. Io l'invito che faccio a Fausto in modo particolare è quello di diventare un punto di riferimento, della città, di diventare un punto di riferimento delle tante realtà associative, di quello che potrà avere un Consiglio Comunale perché è importante la diretta stimi. Io saluto innanzitutto e ringrazio le tanti emittenti televisive, la nostra radia del DL e Bolitana, anche qui loro presente, perché credo che un significato importante è quello di far aprire il Consiglio alla città, di farlo diventare un punto di riferimento. Dopo entrerò più nel medio della parte della parte della parte programmatica, più che altro della parte dell'Aggiunta, però consentitemi, io credo che il segnale di discontinuità i cittadini lo hanno già dato in questa campagna elettorale. Lo si vede dall'assise consigliare, lo si vede da figure nuove, abbiamo ormai figure che rappresentano quasi due terzi, se non di più, del Consiglio Comunale. È un Consiglio Comunale nuovo, giovane, fatto di tante donne, quattro donne in Consiglio Comunale. Faccio a tutti e quattro davvero i miei migliori auguri, oltre poi a tutti i consiglieri comunali, abbiamo tre donne in Giunta, che dopo presenterò. Sulla questione dell'ospedale, consentitemi, io su questo penso che i cittadini hanno capito molto bene in questa campagna elettorale, qual è stata la mia posizione, quale sarà la mia posizione. Io credo che oggi però, rispetto a quello che eri dato precedente, partiamo con un punto in avanti e questo è l'invito che mi è stato fatto, io poi lo rifaccio al Partito Democratico, perché il governatore della regione campagna e del Partito Democratico e di Salerno e quindi mi auguro che le paure che sono state evidenziate da Antonio Cuomo siano ormai chiarite direttamente dal loro interno e che ci portano a noi la soluzione di quello che è stato anche la loro campagna e la nostra campagna elettorale. Quindi su questo credo che sia normale. Noi saremo a fianco, io lo ripeto, saremo a fianco di questa battaglia, il sottoscritto era a fianco del comitato delle mamme, era a fianco davanti all'occupazione dell'ASL, da allora, non solo oggi, da sempre e il sottoscritto ha chiesto un incontro al governatore De Luca, appena logicamente, hanno anche loro i loro momenti di insediamento e comunque anche dell'attenzione famosa che ormai conosciamo tutti quanti, che è quello appunto di lavorare innanzitutto con tutto il Consiglio Comunale sull'unità, su Savare, l'ospedale di Eboli, sul potenziamento dell'ospedale di Eboli e poi devo anche dire che l'ospedale unico è sempre stato detto e chiesto da tutti quanti, quindi su questo lavoro noi indicheremo un percorso che mi auguro sarà poi un percorso condiviso. Ma a parte questo tenevo ancora una volta a ringraziare i consiglieri comunali per l'ottima scelta che è stata fatta nella figura di Fausto Lecchio, una figura che conosciamo bene da 30 anni, una persona esperta, preparata, duttile, molto elastica, una persona che Eboli ha premiato sempre, ha sempre affermato un suo consenso elettorale anche quando quindi ha remato contro i poteri forti. Una persona che è sempre stata all'opposizione, per la prima volta avrò l'onore di averlo a mio franco. Grazie a tutti. Passiamo a questo punto al quarto punto all'ordine del giorno che è la presa d'atto della nomina dell'aggiunta articolo 46,2 del testo unico degli enti locali numero 267-2000. Io darei la parola al sindaco che credo presenterà la sua giunta. Sì, innanzitutto consentitemi, saluto anche tutte le forze dell'ordine presente, erano qui sia 40 che Cisternino della Polizia Stradale e del Comando dei Carabinieri. Saluto il sindaco di Contursi, l'amico Graziano Lardo, non so se ci sono altri rappresentanti, era anche qui il presidente dell'azienda in prossa, Gennaro Rizzo. Mi chiedo scusa se non l'ho fatto prima. il consigliere come l'assessore Forlenza, l'assessore Forlenza di Contursi che ho visto e mi ringrazio falso per avermelo ricordato. Io questa sera noi presentiamo ufficialmente all'assiste consigliare e alla città, l'abbiamo già fatto in una conferenza stampa, la nostra giunta, vi leggerò il nome e cognome con le deleghe, con una piccola premessa, poi davvero sarò sintetico, che è quello di un risultato importante, anche questo è la dimostrazione di unità di questione all'interno della maggioranza. Una giunta nuova, una giunta fatta di persone esperte, fatta di tre donne, per la prima volta anche questa nella storia politica della della città di Eboli, una giunta che ha voluto unire in sé le rappresentanze politiche delle singole liste, le competenze e che ha voluto e che già sta dando, secondo me è un segnale importante di presenza costante, di impegno, di cui sto già ne sto prendendo atto, li ringrazio perché hanno già percepito il tempo da dedicare in modo particolare, ma anche la volontà e la capacità che stanno dimostrando i miei colleghi. Vado a leggere anche poi con le rispettive deleghe, la giunta comunale quindi è così composta da Cariello Massimo, sindaco con funzioni di indirizzo e controllo sulle settore delle politiche giovanili, delle politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, politiche sanitarie, protezione civile, pianificazione e attuazione urbanistica. Il vice sindaco, l'amico avvocato Cosimo Pio di Benedetto, con la carica di vice sindaco, assessore a bilancio, alla programmazione con delega, programmazione e gestione economica e finanziaria, bilancio, politiche tributarie, politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane e organizzazioni dell'ente, contenzioso, semplificazione delle procedure amministrative e trasparenza, sviluppo delle manutenzioni su territorio e di qualificazione a rete urbano, valorizzazione e gestione del patrimonio. Ho voluto fortemente avere Cosimo Pio al mio fianco in giunta, una persona che conosco da anni, abbiamo fatto innanzitutto cinque anni di dura e leale opposizione alla maggioranza del Partito Democratico, abbiamo avuto un ruolo importante all'interno anche del nuovo PSM e in modo particolare una persona che per quanto mi riguarda riesce ad essere la sintesi della parte tecnica e della parte politica, l'ho dimostrato negli anni nella sua storia politica ma vi devo dire anche nella sua storia professionale, questo è un valore aggiunto così come gli altri che abbiamo all'interno della nostra aggiunta. Poi abbiamo l'amica Maria Suleva Manzione, salto l'età per rispetto delle donne ma anche degli uomini, quindi ho deciso anche di non indicare l'età degli uomini, così anche per fatto un piacere, assessore allo sviluppo economico con delega a turismo, attività produttive, agricoltura e commercio, una delega importante, è la delega che abbiamo voluto per la prima volta mettere insieme che riguarda tutto il percorso dello sviluppo economico, ho voluto assegnarlo con la condivisione della maggioranza ad un'amica, ad una persona che conosco da anni, impegnata politicamente, impegnata molto nel mondo dell'agricoltura, nel mondo dello sviluppo economico, conoscenza approfondita di queste tematiche, una persona che ha dimostrato anche nelle gestioni che gli sono state affidate di saperle gestire con competenza, con professionalità, con impegno, con amore e con passione per la nostra città. Perciò vi faccio anche a Maria Sueva un grande in bocca al lupo come lo faccio a Cosimo Pio di Benedetto. Poi Matilde Saia, con assessore alle opere pubbliche, con delega della pianificazione e attuazione delle opere pubbliche e promozione delle pari opportunità. Anche essa è una neo esperienza, per la prima volta si è candidata, ha raggiunto un importantissimo risultato elettorale, eletta consigliere comunale, così come Cosimo Pio è eletto consigliere comunale. Matilde gli abbiamo assegnato una delega importante che è quella della pianificazione delle opere pubbliche, già sta lavorando, così come l'ha fatto Maria Sueva, in modo intenso sulle sue competenze e poi anche una delega che riguarda il mondo delle pari opportunità. Io conosco Matilde da anni, così come ho la fortuna di avere un rapporto anche personale con gli altri colleghi e so bene la sua professionalità in qualità di avvocato, il suo amore, la sua passione per questa città, oltretutto anche la sua storia politica, in modo particolare della sua famiglia e di coloro che hanno rappresentato e hanno dato un segnale tangibile a questa città. La Monica Angela, assessore alla scuola e allo sport, con una serie di delega che vanno dalle politiche scolastiche all'orientamento, rapporti coaglienti e programmazione, coordinamento e programmi dell'edilizia scolastica, diritto allo studio, sviluppo rapporto con l'università, promozione ed educazione allo sport, promozione della pace e rapporti con le associazioni. Anche Angela, anch'essa mica, perché tengo a sottolineare che in politica non possiamo renderci conto che amministrare una città di 40 anni ci deve essere innanzitutto il rispetto, la stima reciproca, la conoscenza anche personale delle figure che ho voluto nella mia squadra. Con Angela abbiamo la fortuna che da quest'anno insegna al liceo artistico di Eboli, ha già dimostrato nella sua storia anche professionale, in modo particolare nel mondo della scuola, di essere un punto di riferimento. Insieme abbiamo fatto una bellissima e importante battaglia che è quella della conquista del liceo musicale presso il liceo classico. Insieme faremo tante altre cose per questa città. Ennio Cinetti, assessore all'ambiente con politica ambientale, attività per la riduzione e gestione dell'inquinamento acustico, attuazioni di progetti politiche energetiche, innovazione tecnologica, sportella Europa, politica di sviluppo e valorizzazione del centro storico, rapporti con le periferie e comunità dei quartieri e poi politiche per il benessere e per la tutela degli animali. Anche Ennio come Cosimo, ormai facciamo parte di quel gruppo storico politico di 5 anni di due alleale opposizione, con Ennio anche ancora prima, già nelle campagne elettorali precedenti. Mi affianca da anni una persona che ha dimostrato sempre amore, passione e capacità per la città di Eboli, in modo particolare per questo nostro bellissimo centro storico e proprio per questo gli ho dovuto assegnare, oltre ad una delega e quella all'ambiente, una delega trattando significativa, dare un valore e uno spessore alla nostra città antica, che è quello del centro storico, persona competente nei suoi settori che ha sempre dimostrato una predisposizione all'amore per la propria città, una predisposizione all'attività politica di questo territorio, una persona che con me insieme facciamo attività politica da tanti anni, da tanti anni abbiamo condivisi tanti progetti e tante esperienze positive per questa città. Daniele Armando, assessore alla sicurezza e alla legalità, politiche sulla sicurezza, coesione sociale e legalità, politiche sulla mobilità e trasporto pubblico, polizia municipale. L'unica figura Armando che viene dall'esterno, non diciamo tecnico perché non è un tecnico, è un noto professionista, penso che lo conoscete tutti, una persona eccezionale, un amico e una persona che ha accettato questo sacrificio in modo particolare come tanti, come tanti che hanno accettato di sacrificarsi in questo impegno costante all'interno della giunta, una persona che ha sempre dimostrato in modo particolare anche di un'area politica storica della città di Ebole, è sempre stato indicato come un punto di riferimento di un'area politica storica ma in modo particolare anche del settore della sicurezza e della legalità, un settore a lui molto cari ha sottoscritto, altrettanto cari anche perché nel programma sulla legalità e sulla sicurezza abbiamo voluto concentrare fortemente la nostra attività amministrativa. Lazzaro Lenza, assessore ai servizi sociali, politiche sociali, politiche familiari e politiche di integrazione, con Lazzaro da cinque anni anche lui abbiamo fatto cinque anni di leale e dura opposizione, abbiamo condiviso il 99,9% di tutte le proposte fatte in consiglio così come insieme a Degno Ginetti, così come anche agli altri consiglieri che mi hanno affiancato in questi cinque anni come Fido Santo e Mario Domini, come Emilio Masala, coloro che insieme abbiamo combattuto all'interno di questa nostra attività di opposizione ma fatta per bene e per interesse della città. Lazzaro, un medico che conoscete bene o male credo quasi tutti quanti, una persona molto legata al mondo del sociale, molto legata al mondo anche di quella che è l'attività di volontariato, una conoscenza approfondita del territorio di Ebole, una conoscenza approfondita delle politiche sociali. Bene, questa è la nostra giunta, questa è la squadra che mi accompagnerà per cinque anni, lo ripeto, questa è la squadra che mi accompagnerà per cinque anni. Tengo a sottolineare questo dato perché credo che questo sarà un altro elemento di discontinuità rispetto al passato, non siamo abituati a fare le staffette, non siamo abituati a saltare da una parte ad un'altra, se non ci sono delle condivisioni politiche all'interno della giunta o della maggioranza, se ci sono delle volontà personali di impegni ulteriori ma non ci saranno sicuramente scelte politiche e condizionamenti perché siamo certi di avere una maggioranza leale, una maggioranza che ha al centro l'obiettivo che è quello di portare a compimento il programma e su questo noi lavoreremo affinché in questi cinque anni porteremo quel risultato che noi speriamo sia un risultato di rilancio, di crescita economica, sociale e culturale della nostra amata città di Ebuli. Grazie. Passiamo allora al quinto punto all'ordine del giorno che è una presa d'atto Chi chiede di parlare? Consigliere Presutto ne ha facoltà Sindaco, consiglieri colleghi e assessori, autorità civili e militari io con grande onore e con grande emozione sono qui questa sera tra di voi e lasciatemelo dire, a pari di Fausto io sono alla terza elezione diretta al primo turno ma sono allo stesso tempo emozionatissimo questa sera perché facciamo parte della storia questa sera facciamo parte di quella storia che ha cambiato il volto dello scenario politico ebolitano in quanto il centro-destra ad Ebuli e rimarco il centro-destra ad Ebuli non ha mai vinto dalla storia della nostra città. Oggi siamo qui a governare Ebuli con l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto io naturalmente, l'emozione poi viene data dal fatto che consentitemi è la vittoria del popolo la vittoria come è avvenuta è la vittoria del popolo noi, è un Consiglio Comunale questo qua sentito per quanto ci riguarda Massimo è stato l'ispiratore di questa grande campagna elettorale ti ringraziamo Massimo, grazie alla tua abnegazione, al tuo impegno di questi anni sei riuscito a trainarci e a portarci a questa vittoria sei stato tu il vero valore aggiunto di questa campagna elettorale io ringrazio i colleghi del Nuovo PC che sono qui questa sera con me ringrazio Giuseppe Piecari alla sua prima esperienza sarò al tuo fianco costantemente quando vuoi ringrazio Enzo Marchesano che è qui anche lui alla prima esperienza e poi lasciatemi ringraziare e fare gli auguri e i complimenti al nostro amico di partito Cosimo Pio di Benedetto che ha avuto il coraggio posso dire tra virgolette di rimettersi per mettersi a disposizione della nostra amministrazione, della squadra e del sindaco ti fa onore questo Cosimo e saremo sempre al tuo fianco naturalmente io poi lasciatemelo dire, io qui in sala ho visto questa sera molti amici anche di partito molti candidati della nostra lista e vi ringrazio tutti perché grazie al vostro supporto grazie al vostro impegno, grazie ai vostri voti, alla vostra quota elettorale siamo qui oggi a parlare da esponenti politici e da amministratori della città vi ringrazio vivamente a tutti voi io come NUP si auspico all'aggiunta un lavoro proficuo siamo qui al vostro fianco, saremo da stimolo continuamente, quotidianamente affinché voi possiate lavorare nel bene della comunità con la trasparenza dovuta e con l'impegno dovuto Massimo l'ha detto, questa è un'amministrazione che avrà una caratteristica fondamentale noi non faremo trappole, non chiederemo mai la testa di un assessore della giunta Cariello però saremo lì attenti, attenti a stimolarvi, lo ripeto, stottolineo a stimolarvi della loro continua e vi chiederemo un rapporto continuo, questo lo chiediamo al presidente tra consiglio comunale e giunta comunale questo sicuramente sarà uno dei nostri impegni di tutto il consiglio comunale naturalmente io faccio gli auguri e saluto tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione io spero ci sia da qui al futuro un consiglio comunale pacificato un consiglio comunale che possa realmente mettersi a discutere sulle tematiche importanti per la città è chiaro che l'opposizione deve fare il proprio ruolo, deve svolgere il proprio ruolo ci mancherebbe, noi siamo qui pronti ad essere stimolati dall'opposizione a fare il nostro lavoro e il nostro compito, sempre con trasparenza e con impegno grazie a tutti voi e grazie alla giunta grazie al consigliere Presutto stasera c'è una maggiore elasticità nell'applicazione del regolamento c'è qualche altro intervento? se non c'è nessun intervento io prego il consigliere Fido ne ha facoltà signor presidente, signor sindaco, signori assessori colleghi e consiglieri, cittadini presenti di norma il primo intervento politico svolto in un'assemblea post-itale è strutturato in questo modo prima il ringraziamento adesso li voglio fare a mia moglie, alla mia famiglia e a tutti gli amici presenti che hanno sostenuto me e la mia collega Filomeno Rosamiglia elettori, colleghi e avversari eccetera poi i contenuti politici ed infine gli auguri a tutti amministratori, dipendenti, cittadini io invece devo raccontarvi brevemente ma con orgoglio la mia storia politica personale e la verità più che una storia personale è un'esperienza di un gruppo di persone che cinque anni fa al domani del ballottaggio che ci vede i sconfitti contro il sindaco Merchionda si rivolse attorno proprio leader con umiltà, costanza, perseveranza e lucimiranza ha lavorato sotto per ben 60 mesi nel rispetto dei principi e dei valori politici e istituzionali nel solo ed esclusivo interesse della collettività e per amore della propria città permettetemi di dirlo sono orgoglioso dei miei amici Ennio Ginetti Cosimo Pio di Benedetto oggi chiamate a ruoli di gestione di primaria importanza sono orgoglioso del mio amico Mario Domini del quale ho potuto apprezzare la serietà e la competenza politica e professionale tutti questi esponenti politici hanno avuto il coraggio di sottoporsi al giudizio del popolo e insieme ad amici vecchi e nuove di tutte le cinque liste equalizzate sono stati premiati vedete i numeri della politica un minuto dopo lo scrutinio acquisiscono solo una valenza statistica è poco conto se qualcuno ha avuto 500 voti una lista ha superato lo scoglio dei 2000 voti ciò è veramente conto è lo spirito di gruppo quello spirito che cinque anni fa ci ha unito che ci ha accompagnato per un lungo percorso di esperienza politica e amministrativa e oggi ci viene tutti uniti sempre di più quello spirito di gruppo è stato volano di questo miracolo che si chiama cambiamento dopo 20 anni di egemonia di centro-sinistra quel gruppo di sognatori testati volenterosi è stato capace di raccogliere attorno a sé tanti altri volontari del cambiamento e ha vinto la sfida finale consegnando alla città un consiglio comunale rinnovato per il 70% è una giunta municipale giovane seria e competente con tre donne che saranno il fiore all'occhiello della nuova politica e politana insieme ovviamente alle quattro colleghe che siedono con me in consiglio comunale ma ma tutto questo non serve non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un sognatore un politico di razza una persona che ama la sua terra la sua città pietra su pietra un caparbio trascinatore un paziente instancabile testitore di ragionamenti politici probabilmente senza di lui questo miracolo non si sarebbe avverato e perciò siamo qui e perciò ci stringiamo attorno a lui lo proteggeremo dalle insidie velenose lo assisteremo al governo di questa città per i prossimi 10 anni lo aiuteremo ad entrare negli annali della storia chiamata quale artifice della rivoluzione culturale sociale ed economica che ha promesso e che insieme ci sforzeremo di attuare signori Massimo Cariello non è più solo uno di noi egli è la nuova guida politica e amministrativa della nostra amata Eboli ed è e io sono orgoglioso di essere stato a suo fianco in questi cinque lunghi anni e lo sono ancora di più perché oggi posso raccontarvelo da consigliere eletto e da capogruppo questo gruppo Eboli Popolare che è già diventato un piccolo nucleo familiare con il veterano residente Fausto Vecchio con l'esperto Emilio Masala con la New Entry Matilde Saia il nostro assessore di riferimento e consentito una citazione particolare con Filomena Rosamilia un'amica vera da poco è diventata anche mamma tanti auguri che mi ha sopportato durante tutta la campagna elettorale e che mi ha dato un contributo netevolissimo per questo nostro brillante risultato diciamo che io mi fido di Rosamilia detto ciò ora ci tocca governare abbiamo superato l'ostacolo forse più facile gli ebolitani ci hanno premiato e ci hanno affidato l'incarico di amministrare questa città indebitata nello spirito e nelle risorse e noi il compito di risollevarla e di condurla verso la rinascita dobbiamo mettere in atto una vera e propria rivoluzione copernicana certo non sarà facile ma sono convinto che ci riusciremo piano piano passo dopo passo dovremo affrontare molte questioni spinosi e lo faremo da una parte noi consiglieri comunali nell'esercizio delle nostre attività di programmazione e controllo dall'altra la giunta municipale che ha il compito più arduo è quello di gestire le fasi complicate dell'attività amministrativa ed è per questo che prendiamo atto convintamente delle nomine conferite dal sindaco agli assessori qui presenti tutte persone serie e competenti ma al tempo stesso umili ed efficienti hanno già meritato la nostra stima da oggi avranno il nostro incondizionato sostegno saremo per loro simboli di collaborazioni tutti protesi verso quel risultato che è la ricerca del bene comune perciò io penso che anche le strutture politiche le nostre liste civiche i partiti di riferimento dovranno giocare un ruolo attrettanto importante per far sì che Eppoli possa tornare ad essere quel laboratorio politico riconosciuto e apprezzato a tutti i livelli ma anche per questo occorre tempo e noi sapremo aspettare per poi trovare le soluzioni giuste sempre con la serenità di oggi e quell'intesa che fa di noi una maggioranza forte e coesa sono convinto che sapremo gestire e migliorare la fase di ascolto dei nostri concittadini non a caso la nostra lista di punta si chiama ascolto cittadino così come sono persuaso dal fatto che sapremo coinvolgere tutti i consiglieri perché la nostra città ha bisogno di tutti state tranquilli non faremo più quelle pastocchie che hanno caratterizzato gli ultimi 15 anni di governo cittadino noi rispettiamo la volontà popolare mantenendo fermi gli assetti politici e sostituzionali per come si sono manifestati il 31 maggio signore assessore a voi l'incarico di esercitare le funzioni di gestione con l'animo libero di condizionamento a te sindaco il compito di guidarli in questa esaltante avventura grazie a tutti e buon lavoro grazie consigliere Fido ci sono altri interventi nessun altro intervento dichiaro chiudo consigliere Busillo ne ha facoltà chiaramente interveniamo su una presa d'atto per motivi di trasparenza anche per spiegare i motivi che ci hanno condotto come lista ad indicare il nostro assessore in giunta e a spiegare a tutti i cittadini il percorso che abbiamo vissuto innanzitutto signor presidente signor sindaco colleghi consiglieri finalmente posso dire giunta insediata buonasera a tutti ho preso la parola in precedenza solo per motivi di contingenza però consentitemelo di dire consumo piacere col massimo rispetto per questa sise consigliare che è la massima istituzione democratica la più autorevole della nostra città che prendo la parola davanti a voi io voglio salutare anzitutto i cittadini presenti le autorità civili e militari le associazioni i comitati di quartiere e chi ci ascolta da casa chiaramente noi abbiamo fino ad oggi commentato un risultato elettorale che è stato strabiliante sotto tanti punti di vista che è stato frutto di passione di entusiasmo travolgente di una voglia di fare della voglia di fare di tanti cittadini però io credo che da questo momento in poi il tempo degli onori sia finito e come immagino anche gli altri colleghi consiglieri abbiamo voglia di fare abbiamo voglia di lavorare il tempo degli onori è finito è il momento di metterci all'opera per la nostra città grazie i cittadini ci chiedono con forza di lavorare tanto di lavorare bene e ce l'hanno ce l'hanno chiesto con il modo più semplice che avevano conferendoci uno dei più larghi consensi elettorali che si sia mai registrato in questa città quindi noi abbiamo oltre che diciamo il piacere di rappresentare abbiamo la responsabilità noi non chiedevamo altro per noi e per la nostra voglia di fare politica non chiedevamo altro che rappresentarvi e di rappresentare di fare le cose che ci avete chiesto e che noi vi abbiamo proposto Dennis Waitley diceva ci sono sempre due scelte nella vita accettare le condizioni in cui viviamo o assumerci la responsabilità di cambiarle noi questa responsabilità mi permetto di dire sindaco Massimo il nostro il nostro leader ce la siamo assunti con pienezza e vigore ce la siamo assunti con tutta la pienezza che potevamo e ci metteremo tutto il vigore che potremo il peso della responsabilità di certo è forte ma non ci annichilerà perché avremo sempre voglia di affrontarlo con i principi e con i valori che le nostre famiglie ci hanno insegnato che i nostri genitori ci hanno tramandato e che ci ispirano sia nell'azione quotidiana che nella vita professionale che nella nella nostra azione politica 37 anni fa il 9 luglio del 1978 pronunciò il suo primo discorso da presidente della Repubblica il nostro forse più amato presidente Sandro Pertini che che quando giurò da presidente della Repubblica affermò queste semplici quanto sostanziali parole oggi ci vogliono due qualità onestà e coraggio cercare di essere onesti prima di tutto perché la politica deve essere fatta con le mani pulite e noi quelle mani pulite le abbiamo e vogliamo utilizzarle per rappresentare al meglio le mani pulite e libere che ci hanno votato e che vogliono ci hanno dato fiducia e per le quali noi lotteremo dicevo i principi che ci ispirano le mete cui tendiamo la meta della giustizia sociale saremo e io chiedo come non l'ho fatto prima diciamo come gruppo consigliare insieme per Eboli rappresentando i consiglieri Pierluigi Merola e Roberto Grasso chiedo a tutta la giunta al sindaco al presidente del consiglio e alla minoranza che siano questi i valori ad ispirarci dobbiamo essere forti e autorevoli con i forti e i furbi però dobbiamo rimanere umani e comprensivi verso i veri deboli con i veri ultimi con chi davvero soffre punteremo a porre tutti quanti sullo stesso piano di partenza poi saranno il merito la competenza la voglia di fare a distinguere ognuno di noi per quello che merita e per quello che vorrà fare non è possibile essere uguali per tutti dobbiamo porre però tutti quanti nelle stesse condizioni di partenza con la trasparenza con un'azione amministrativa che sia appunto equa questa è per noi la libertà la libertà di fare e di pretendere per se stessi e per le persone che ci sono vicine quello che meritiamo né di più né di meno di quanto abbiamo il diritto di chiedere e a volte con forza anche di pretendere la politica io credo personalmente sicuramente mi ispirerà sarà ispirata alla realizzazione del bene comune avrò spero sono certo avremo orecchie per ascoltare le grida o anche solo i sussulti dignitosi di chi soffre e chiede aiuto avremo il cuore per sentire in ogni vena e il nervo del corpo quello stesso dolore quelle stesse paure avremo sangue che ribolle al solo pensiero delle ingiustizie avremo gambe e passione e su questo il nostro sindaco ci dà tutta la carica del mondo tutta la passione per non fermarci mai ebole la nostra terra noi insieme e mi appresto a concludere la cureremo e la difenderemo dalle speculazioni dalla corruzione e dall'ignoranza con le stesse mani pulite di cui parlavamo prima concludo veramente sindaco presidente colleghi consiglieri grazie della pazienza cittadini tutti l'appello che lancio è quello ad innamorarci dei nostri sogni perché il vento è cambiato finalmente grazie grazie consigliere Busillo ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi dichiaro cioè c'è il racchiesto di parlare il consigliere sgrittane a facoltà signor sindaco signor presidente signori membri della giunta signori consiglieri il recente risultato elettorale ha dimostrato a chiare lettere che gli ebolitani hanno deciso di aprire nella loro città una nuova stagione politica il gruppo consigliare di ascolto cittadino sente di ringraziare ogni singolo cittadino che con la sua preferenza ha fatto sì che ascolto cittadino fosse oggi la prima forza politica di questa coalizione di maggioranza un ringraziamento sincero va al sindaco Massimo Cariello che ha creduto da anni nel nostro contributo un contributo civico allora potenziale oggi più che mai reale fatto di idee di proposte e di valori ampiamente condivisi ascolto cittadino rappresenta un movimento politico che vuole dare un nuovo impulso all'azione amministrativa della città di Eboli un movimento dove solo la voce del cittadino rappresenterà il puntello dell'azione politica della nostra compagine consigliare ma cosa ci hanno chiesto i cittadini in campagna elettorale e soprattutto cosa chiedono a questa amministrazione noi abbiamo motivo di credere che il cittadino ci chieda di mettere a bando il passato un passato fatto di posizioni di privilegio che venivano dall'appartenenza ad una famiglia o peggio ancora ad un partito politico una città fatta per pochi dove i pochi privilegiati con uno istruzionismo fatto ad arte ha sovente bloccato l'impulso innovatore di cui Eboli necessitava per preservare posizioni di privilegio o rendite di posizione con benefici per pochi e conseguente decadenza del nostro territorio rispetto ai paesi vicini in tutti i settori chiave dell'economia dal commercio all'edilizia dal turismo ai trasporti alla sanità alle strutture sportive noi come gruppo consigliare di ascolto cittadino ci faremo carico di rappresentare ogni singola proposta ogni singola istanza raccolta in questa lunga ed entusiasmante campagna elettorale ci teniamo a dirlo il nostro scopo è il buon governo la tutela del bene comune e l'interesse della collettività pensiamo che esso si possa ottenere rispettando il principio di legalità l'istituto giuridico della trasparenza e mantenendo sempre un forte senso di responsabilità non abbiamo la presunzione di dire a voi oggi questa sera cosa è il principio di legalità possiamo solo dire che esso afferma che tutti gli organi dello Stato sono attenuti ad agire secondo la legge che ci può essere discrezionalità nelle scelte ma non arbitrio che l'istituto giuridico della trasparenza prevede la visibilità e la controllabilità dell'operato della pubblica amministrazione e che soprattutto la responsabilità è la capacità di rispondere dei propri comportamenti di renderne ragione e di accertarne le conseguenze questi sono i nostri principi questi sono i valori fondamentali che Ascolto Cittadino userà come filtro per ogni attività che da oggi in poi questa amministrazione andrà a compiere abbiamo percezione che la popolazione vuole essere rappresentata da chi garantirà un nuovo modo di fare un nuovo modo di agire che metta davanti sempre e comunque il benessere della collettività già questa sera nella scelta dei ruoli importanti dei ruoli chiavi dove pur potendo secondo i vecchi schemi della politica dettare condizioni dati risultati ottenuti per gioco di squadra abbiamo scelto e abbiamo lasciato ad altri i ruoli di maggiore visibilità questo non significa che ci sentiamo secondi a qualcuno soprattutto quando dovremmo incidere sulle scelte strategiche per la città e quando dovremo imprimere a questa amministrazione di cui ci sentiamo forti trascinatori la nostra forma Mendis e i nostri valori l'amministrazione Cariello sarà condotta egregiamente da Ascolto Cittadino attraverso il suo gruppo consigliare e i suoi eccellenti assessori parteciperemo pertanto alla definizione all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dell'aggiunta nel suo complesso in funzione sempre collaborativa e costruttiva ma con il ruolo di garanzia che è proprio di ciascun consigliere ci faremo promotori infine di una serie di indicazioni strategiche che consentano alla macchina amministrativa di porre in essere iniziative atte a segnare definitivamente il cambiamento nella gestione della cosa comune sia nei modi di fare e nei valori da profondere che soprattutto nelle azioni operative da porre in essere concludo dicendo che con queste premesse porgiamo i nostri più sinceri auguri a tutti i membri dell'aggiunta auguri di buon operato e di forte incisività nelle scelte strategiche che la città di Ebole attende ormai da anni ascolto cittadino sarà sempre al vostro fianco da supporto da stimolo da sprono sicuri di poter scrivere una pagina importante nella storia politica e bolitana grazie grazie consigliere Sgritta ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione sull'argomento passiamo allora al punto numero 5 all'ordine del giorno che è la nomina della commissione elettorale comunale articolo 41 del testo unico antilocali e articolo 30 del regolamento comunale chiede la parola il consigliere Presutto ne ha facoltà Presidente io chiedo ai colleghi consiglieri di rinviare questo punto all'ordine del giorno per rinviarlo poi a una prossima conferenza dei capi gruppi di maggioranza di opposizione per discutere appunto della commissione grazie chiede la va bene se non ci sono interventi contrari se siamo tutti d'accordo allora l'argomento è rinviato e a questo punto carissimi concittadini carissimi consiglieri signor sindaco signori della giunta dichiaro chiusa la seduta buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti